In realtà non serviva più di tanto, ora silenzio. Quello che state ascoltando è FAMBOL LIVE! FAMBOL LIVE! In realtà, allora, siamo sempre live, tecnicamente. Ebbene sì. Però c'è da dire che delle volte siamo più live che altre. Tipo, questa sera siamo live perché sono 200 puntate di FAMBOL. Sono 4 anni di FAMBOL. Sono 2 anni di QWERTY. E San Patrizio! Abbiamo della birra! Io non ce l'ho solto perché non c'è. E per quello che sto bevendo è come una di... Esattamente. E oltre a tutto questo, è venerdì 17, abbiamo un gioco da provare. Abbiamo un gioco picchissimo. E che gioco! E che gioco! E' un bel gioco, come direi. Adesso a prendere il pane e poi sono dei vostri, ma dato che io questo gioco ormai lo conosco molto bene. Bravo, bravo. E prendere il pane e lo chiediamo, o meno te stesso. Molto bene. Non è detto che ci sia ancora del salume quando torni. Se vuoi prendere quelli lì verso di te, puoi fare tranquillamente. Questi? Ok. Ma come? L'ha detto lui lo specchio è mio. Non capisce niente. L'ha detto lui è per tutto. No, no, sono finiti. Dunque. Proteine, no? Sì. Cosa stiamo facendo questa sera? Uriacandosi. Io pesantemente. Ah. Non ancora? Non pesantemente perlomeno. Nella media standard di FAMBOL. Ho impostato una tasca, una fila all'altra, che prevede un'obbligatura pesante. Ah, bene. Siamo in diretta dalla Forge degli Eroi di Bianca Era Milano, che è un posto che è ufficialmente aperto oggi. Ed è fichissimo. Devo dire che le birre sono tutte buone, soprattutto passano da, e qua è il sommelier della birra, cioè Green Dine, ho detto anche me. Cioè, Manto. E' un po' di zato. Che si passa da tipologie di birre differenti, ragazzi. vorrei dirvelo. Si passa da quelle amabili, ambrate, morbide, un po' più secche e soprattutto alcoliche. A me hanno dato un imperial stout imperiale. Veramente buona. Buona. Il falso imperatore apprezza la stout. Webcamers. Webcamers. Sono il cameriere. Cosa vi serve? Il cameriere è Matteo Scandolin di Ricciotto. Come serve Matteo Scandolin di Ricciotto? Ma se hai giocchino in pelle. E non so perché ho appena mangiato. Non vorrei farmi male al pancino. Vuole un te caldo? Ma se mi fa così durante il te caldo, preferisco i doccati. No, per il biscotto nel te caldo. Ah, il biscottone. Il savoiardo. Il savoiardo nel te caldo. Va bene, io entrerò a cazzo durante la trasmissione così per distruttarmi. Grazie. Grazie. Anche per portare dei garaggi se vuoi. Va bene. Oltre a te vedremo entrare degli ospiti come Francesco Ponsini che ha alcuni... Un applauso! Facciamo casino ai microfoni. Colui che da tempo ci segue, da tempo ci intrattiene, da tempo ci risponde. E che è venuto nella terza stagione di Favol per interpretare Barbarone. Yes! Che già è il nome. Non un personaggio a caso. Non un personaggio a caso. Ok, ma stasera non siamo qui a giocare a Dungeons & Dragons, a Pathfinder, a Cult, a Vampiri, a Dragon Age, a niente di tutto quello che potreste conoscere. Perché siamo qui a giocare e se ci state guardando su Facebook o su YouTube nei prossimi giorni... Che emozione! Stiamo giocando a questo... E se ci avete già giocato vuol dire che siete viaggiatori del tempo. Esatto. E quindi ci avete qualcosa da spiegarci. O tra i pochi eletti che sono stati aggiunti da me personalmente nel gruppo Playtest di Clotes. Perché questo, Clotes, che è il gioco che vedete in webcam, è un manualetto a 5 di 100 pagine per ora, è il gioco che ho scritto negli ultimi tre anni. È partito da un gioco da tavolo, in realtà, un gioco da tavolo per bambini ed è diventato un gioco di ruolo per adulti. Fichissimo. Un gioco da tavolo per adulti. Fichissimo. Adultissimi. Beh, sul tavolo da adulti si fanno un sacco di cose. Dipende quanto adulti, perché se arrivi a un certo livello di adultaggine non ne fai più. No! Ci serve il... No, è come... Il balanco, quel punto. No, no, è come le merendine per zero calcare, il problema è quando smetti. Vero, vero. Di sempre non c'è problema. Vero, vero. Ok. Clotes è nato da un unico punto che mi ha sempre dato fastidio dei giochi di ruolo, che sono i punti esperienza. Ah, ah. A me fanno cagare i punti esperienza. Bravo. Come avete notato da Fanboy, in quattro anni non ho dato un punto esperienza che sia uno. Ma in realtà, visto che mi venivi incontro, in realtà ci facevi fare il passaggio di livello uguale, che è come dare i punti esperienza. No, secondo me non è la stessa cosa. È diverso, secondo me. Perché è più legato a o un passaggio di sessioni per cui il gruppo per forza va avanti, e va avanti uniformemente, e non è detto soprattutto che sia legato all'uccidere delle cose. Che è il grosso problema che io ho riscontrato con Pathfinder e Dungeons & Dragons negli anni, sono giochi che premiano l'uccidere qualunque cosa si muova. Ma se ci pensi, peraltro, tutte le volte che cerchi di risolvere questo problema, devi creare un altro. Perché ci sono dei giochi che, per esempio, ti danno punti esperienza quando scopri cose, ma implicano che scoprire cose da punti esperienza e ucciderle no. E siamo da capo. Ed è un grosso. Entrate, entrate. Fumble, porte aperte. Senti, benvenuti. Quella è una sedia occupata da spostare. Lì ci sono tre sedie. Diciamo che però io ho notato che in molti gruppi di un certo livello, qua è gruppi di un certo livello. Questi gruppi di un certo livello. Sommelier del GDR. Sommelier del GDR. La prima host rule che si fa è diamo i pix a obiettivi invece che ha, che però veniva sempre fatta come uno host rule. Ma che vuoi produrre quello che ha senso? Perché purtroppo non è una regola che sia di base il concetto di base del gioco di ruolo. Cioè tu non guadagni punti esperienza perché interpreti o fai delle scelte. Questo, questo, questo disco, questo, questo, questo è l'arma del mio potere. Sì, è un disco di Ossidiana, fatto opposta. Esatto. Per romper l'annicchio. Per romper l'annicchio. Adesso qui per quando arriva Matteo. E lo rifiliamo. Puoi scrivere a Matteo di venire a prendere il vassoio. Anche tu hai ragione perché esiste la tecnologia. No, vero? Clotes viene incontra questo grosso problema per me perché sposta il focus da che cosa decide il master e che cosa decide il manuale, spostando l'attenzione su cosa decidono i giocatori. Anche se è manto. Anche se è manto, soprattutto se è manto. Cioè, tenendo conto che... No, ecco, questo secondo me è il difetto più grande di questo gioco. Il difetto più grande di Clotes è fatta su di me. No, è che abilita manto a fare più cose che gli altri giochi di solito gli impediscono da regole. E questo mi preoccupa tantissimo. Allora, diciamo due cose fondamentali di Clotes e poi magari iniziamo direttamente a fare i personaggi a giocare. Io le sto già impostando, però a me è che mi partono le risposte a cazzo del tipo un perché me ne sono andato sti cazzi perché lo vuoi sapere? Cioè, vabbè... Ci penseremo poi. Allora... Io l'ho scritto. Sti cazzi perché lo vuoi sapere? No, io l'ho scritto. La cosa fondamentale di Clotes è che sono appunto i personaggi a scegliere cosa fare e quando farlo. Questo va da voglio tirare un dado, sì, no? Voglio tirare un dado e tirarne un secondo per avere dei vantaggi come abbiamo fatto in Guerra Stellari. Se ci avete ascoltato e non ci avete ascoltato, andate a ascoltare Age of the Empire perché è il gioco più bello della storia. Sì, però... Non è di parte, no, 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 della storia magari, no, però effettivamente è bello. No, no, è il gioco più bello della... per me. È figo. È molto figo. Come minimo è molto figo. Beh, sì. Sì, sì. E la terza cosa fondamentale è che sono i giocatori a scegliere quando aumentare di livello. Questo perché quando è necessario tirare un dado perché non si è sicuri che l'azione abbia successo o è una questione di vita o di morte, se i giocatori vogliono essere sicuri di riuscirci possono dire io consumo uno dei fili del destino che lega il mio personaggio al grande razzo della storia per riuscire sicuramente in questa cosa. Questo fa riuscire i personaggi e gli dà un potere nuovo che prima non avevano. A differenza di altri giochi, non aumentano punti ferita, non aumentano le caratteristiche, i personaggi diventano solo più bravi a fare più cose e non più bravi a fare un'unica cosa. E sono come indicato. Avevo fame. Ce ne erano rimasti tipo dieci. Ma perciò questi non li vuole essi. Li ha aspettati per 40 minuti, però non li voleva. No, esatto, li avevo presi per te. Io pensavo che tu li vuole, se l'altro non mi hanno già affettato. Te li ricordino, scusa, te li ricordino subito tramite Matteo Scandorino. Cos'hai dito, ma già stinta? Già Scandorino. Già Scandorino. Adesso gli scrivo io mentre racconto altre due cose su Clotis. Molto bene. Le regole di Clotis sono veramente ridotte all'osso, nel senso che quello che ho cercato di fare è dare un sistema il più asciugato e stretto possibile, in modo da permettere sia a giocatori, diciamo, veterani, che a Newbie, di approcciarsi a Teotis, avanti. Vedi, non ho neanche avuto bisogno di scrivere. Puoi portare dell'altro pane, per favore. È colpa mia. Grazie. Questo momento è molto ormai, del fatto che abbiamo uno Scandorino. No, non ho neanche potuto scrivere. Non ho scritto il nome Scandorino. Abbiamo uno Scandorino. No, dai, mettiamo a Celsa. C'è che dice Celsa, gliel'ho scritto io. Diamo a Scandorino ciò che è di Scandorino. E le regole base, base, base di Clotes sono riassumibili in... I personaggi hanno delle statistiche. Le statistiche sono sei, sono delle virtù in realtà, che non descrivono che cosa un personaggio è innatamente bravo a fare, ma che cosa si è addestrato a fare, o come vuole fare qualcosa. Ok. Queste virtù, in totale, vengono divisi 16 punti. Ok. Potete dividerli come volete, potete anche mettere 7 punti in una virtù e 0 in un'altra. Il pane è ordinato, arriverà prima o poi, serve qualcos'altro? Una rossa. Una rossa? Donna! Ogni 5 minuti verrebbe interrotti da macchia a Scandorino. Eccolo qua. Sì, ma non so. Una divisione che è quella standard, diciamo, 4 in 1, 3 in 2 e 2 in 3. In modo da arrivare a 16, però, essendo bravi in una cosa, mediamente bravi in due, e mediocri in altre tre. Ok. Le virtù che i personaggi hanno a disposizione sono 6, e sono, per essere fino in fondo precisi, accuratezza, ascendente, prudenza, sapienza, vigore e volontà. Il che mi piace molto, perché non si parla di caratteristiche interinseche come gli andy, ma sono una cosa un po' diversa. Mi piace che siamo a metà fra le abilità e le caratteristiche. E' una cosa che sono andato molto a cercare, proprio perché una questione è che cosa il tuo personaggio è in grado di fare, perché fisicamente è quella persona lì, un conto è quello che si è addestrato a fare. E io sono più interessato alle scelte che ha fatto, e quindi a che cosa si è addestrato a fare. Queste sono quelle virtù. Posso essere più accurato che brutale, posso avere una grande forza di volontà, ma essere poco prudente, e da qui in poi parrebbe essere un dado più una caratteristica. Ok. Ma ci sono altre due regole fondamentali. Una, sono previste delle specializzazioni. Oltre a quello che siete addestrati per i fatti vostri a fare, ci sono delle cose in cui siete particolarmente bravi. Alla creazione sono due. Le specializzazioni, quando tirate un dado da sei per vedere se riuscite o meno, ve ne fanno tirare due. E come in Dungeons & Dragons Quinta Edizione, tenete il migliore. Ok. L'altra questione è che quando tirate uno di questi dadi, a prescindere dal risultato che fate, cioè se siete riusciti o meno, potete cercare di ottenere dei punti fatti o rischiare di avere delle sciagure, che sono quello che facevamo in Edge of the Empire, i vantaggi e le minacce. D'accordo. Anche questo è una cosa che sta totalmente a voi. A cosa vi servono i vantaggi e che cosa implicano le sciagure? Le sciagure sono sempre al massimo una, mentre i punti fatti possono essere più di uno, soprattutto più avanzate di livello. D'accordo. Perché ogni due ridere prendi un punto fatto aggiuntivo per ogni rischio che ti prendi praticamente. Esattamente. Esattamente. In più potete ritardare l'azione per un round e prendere la mira o caricarvi, come fa lo stregone in tredicesima era, e accumulare energia che potete usare come punti fatti. Ok. I punti fatti possono essere usati in diversi modi. Possono essere usati per darvi un vantaggio tattico, chiaro, tipo ho disarmato il mio avversario, sono in posizione sopraelevata rispetto a Anakin Skywalker, che è l'importante di fare. È perfetto, dici, sì. Tanto l'ho già perso, Anakin. Non è sindacabile la posizione sopraelevata. Oppure possono essere usati per migliorare. Quando si offre, si può prendere, non quando viene appoggiato. Scusate. In realtà quello che avendo successo dimostra il contrario, però probabilmente andrò all'inferno per questo, dici. Scusate, secondo te. Prima il video era frizzato, non so se ancora è frizzato. Se su Facebook può avere ogni tanto amministra dei minimi problemi, perché era frizzante. Ma il problema è di Facebook. Noi siamo registrati da parte, quindi... Ciao Facebook. Molto bene. Grazie. I vantaggi, o meglio, i punti fattori possono essere usati anche per migliorare le vostre azioni. Le azioni di base, standard, hanno effetto su una persona, una creatura, a raggio vicino, e fanno un danno. Ok. Questa è la base proprio. Questa è la base. Con i vantaggi, o meglio, i punti fattori, potete aumentare i danni che fate, aumentare il numero di creature che colpite, aumentare il raggio della portata, dell'azione che volete fare, e via discorrendo. Ok. I personaggi, oltre ad avere queste sei virtù di base, rispondono a delle domande nella creazione che servono... Qui serve dove vieni, dove vai, un fiorino. Esatto. Servono a darvi consapevolezza di chi deve essere il vostro personaggio. Per prima cosa... Vediamo il numero che tu fa. Ok. Per prima cosa, dategli un nome. Fatto! Il nome è il più importante in questo momento, perché Ciccio Tredita non è come Rael Tredita. Ok? Ciccio è meglio, dici. Chiaro. Beh, sì. Dica Cicciotte. Diciamo che un eroe con il nome del genere... Eh, insomma, diciamo. Eh, dai. Non va mica bene. Ma in realtà ha delle implicazioni, non è detto che debba per forza essere l'eroe epico che risolve... Assolutamente sì. Il mondo. È un eroe che contribuirà alla salvezza del mondo, ma bisogna vedere in quale... Ho la ricerca sull'evoluzione delle salsicce. Anche. Quindi, per prima cosa, dategli un nome. Avete scelto un nome? Sì. Noi abbiamo scelto un nome. Come vi chiamate? Prego. Io sono Lothr Freefinger. Vedi che Tredita saltava fuori? Detto anche Tredita. Come anche Rael. Io sono Rael Al-Amarath. Detto la finisce. Ma tu, non mi faccia pronunciare. No. Ucazio. Invece il mio nome è Alexander. Però inizia con la... Al? Alexander e non si sa se Ander è il cognome. Ah, Alexander. No, se si chiama Alex. Ah, ok. Under. O è Al... Ex-E-Sander. O tu le potrebbero essere Alexander, che lui si va a chiamare solo col suo nome. Come c'è? Diciamo che sulla scheda è scritto Alex Ander. Ok. Una volta scelto il nome, pensate a chi volete essere. Potreste essere un cavaliere senza macchie e senza paura, un alchimista al servizio del re, una canaglia dal cuore d'oro, o qualunque altra gradazione di personaggio. La razza non è presa in considerazione. Potete essere anche una roccia parlante, per quanto mi riguarda. Io sono un forge a eroi. Ok. Non succede mai, non lo fai mai. Beh, è il tema dove siamo, scusa. Chiaro. Alla parte del ghiato. Io sono un... Quello che fu un guardigiorno e un ladroncolo, che sarebbe morto in un incendio di Marocanda, in cui stava cercando di rubare qualcosa... Ma non lo sai, perché non è Marocanda. È chiaro, l'ho fatto per citazionismo. Stava per morire un incendio, se non fosse che puntini e puntini. Poi nel caso lo spiego meglio. Però mi è successo qualcosa di importante. Io, giocatore, non ho ancora dato fuoco a questo Locanda, nonostante stia bevendo, abbia rubato le 20 monete d'argento. E abbia rubato le 20 monete d'argento. Sì, sì. È in trasmissione, lo sai, che questa cosa ce la ricorderemo. Hai pagato tu, io no. Ah, è vero. Quindi ha rubato le 20 monete d'argento. Strano! Io ho rubato il bagno. Perché non si trova un manuale delle regole. Giusto. E detto questo, sono cresciuto nei piccoli bui di una grande città. Ero quello più grande e grosso di tutti. Per il fatto che fossi grande e grosso mi ritenevano tutti stupido. Non lo sono mai stato. E avevano ragione. Ma a un certo punto ho riconosciuto nell'abilità di qualcuno una prospettiva di vita, un significato. E ho deciso che il mio scopo al momento nella vita è di aiutarlo a raggiungere il suo scopo. Ok. La prossima domanda a cui rispondere è che cosa è bravo a fare il vostro personaggio? Cioè, avete diviso i punti nelle caratteristiche, cioè nelle diverse base? Sì. Ok. Oltre a quello, avete assegnato due specializzazioni di cui c'è una tabella di quelle consigliate, ma sono quelle consigliate. Se avete delle altre specializzazioni, tipo con Roberto durante il playtest, abbiamo provato una specializzazione che io non avevo pensato, che erano le magie di buff, cioè che migliorano le azioni altrui. Non hanno alcun effetto su se stessi, migliorano qualcosa di qualche altro. Quello era una roba... Non poesale per fare una palla di fuoco. Esatto. Poesale solo per dare il potenzialmente a altri. Era una cosa che non era uscita nella mia scrittura del manuale, abbiamo testato a retto perfettamente. Sì, perché è molto limitante per alcune cose, perché non puoi fare la palla di fuoco o altre cose, però puoi girarci molto intorno. Per le specializzazioni c'è da chiedere che non solo vi aiutano nel fare un'azione, tipo avere la specializzazione armi da fuoco non vi aiuta solo a sparare meglio e più accuratamente, vi permette anche di avere dei prezzi migliori quando ve le canteggiate su un'arma da fuoco, capire quale arma da fuoco ha un vostro avversario e quindi capire quali sono i punti deboli e di conseguenza tutto quello che contorna a questo. Noi risolviamo quell'eterno dilemma in fase 3.5, 3.5 Pathfinder del ho conoscenze armi da fuoco ma non ho la capacità di utilizzare le armi da fuoco. Qui armi da fuoco, so delle armi da fuoco, poi a seconda della virtù posso o capirne meglio o saperlo usare meglio ma di base ne ho con... Stessa cosa penso per quanto riguarda la magia, magia, ammagliamento, libri di... Ci sono nove effetti base di magia che sono il tipo di magia, per cui avviorazione, ammagliamento, comunicazione, dislocazione, divinazione, elementalismo, guarigione, illusione e trasmutazione. Io se questa ho una domanda. Ma questo non limita quello che la magia vi può dare. Ad esempio, sempre nel playtest con il nostro gruppo è saltato cuore. Io conosco gli oggetti magici. Non sono specializzato in particolare sulla divinazione, ma sugli oggetti magici. Quindi sono in grado di identificare gli oggetti che i miei nemici hanno, sono in grado di valutare quanto vale una cosa, sono in grado di capire qual è l'effetto, se è generato da un oggetto, se non è generato da un oggetto, no. Ok. La mia domanda era, influenzare la mente di qualcuno è più ammagliamento o illusione? In genere è ammagliamento. Ok. Illusione è più influenzare i sensi. Però? Però a quel punto, modificando la mente, non stai già agendo anche sui sensi? Non necessariamente. Se stai diventando amico di qualcuno, o stai bloccando qualcuno, o stai facendo odiare qualcuno a qualcun altro, non stai agendo sui sensi. Ok. Invece far pensare una cosa diversa da quella che stava pensando una persona? È sempre ammagliare. Ok. Però far pensare una cosa che non c'è, o far pensare una cosa, quello chiaramente... Che poi lì, la cosa che ho notato anche io nel playtest, è che puoi girarci sempre intorno, dipende da quanto sei bravo tu a girarci intorno e quanto anche ti lascia fare il master, il tessitore, scusa, perché appunto io ho fatto questa domanda specifica perché se uno ti attacca e io voglio fargli mancare il colpo, posso farlo sia con illusione per fargli credere che tu sei un po' più in là, come posso fare anche perché in realtà il colpo che vuoi fare è un colpo basso. Certo. E potrebbe anche essere in realtà che rigi uno scudo di terra di fronte alla... o gli fai sprofondare un piede nella terra o sposti uno con la dislocazione e fai fare in 2.000 modi. Quando il guarigione in teoria lo fai ferire e automaticamente gli sequenzi. A seconda di che cosa è bravo a fare il vostro personaggio potete dirmi io cerco di fare questa cosa in questo modo. L'importante per i personaggi è fare quello che sono bravi a fare. Non li conti. Ci siamo. Go. Non li conti perché ho messo 17 punti invece che 16. Molto bene. Io lo imparo subito. arrivo subito bravo. La domanda dopo il che cosa è bravo a fare è che cosa possiede il mio personaggio. Ora questa domanda all'apparenza è abbastanza generica ma tenete conto che piccoli oggetti come la solita corda il solito bastone di 3 metri Esatto 50 torce no 50 torce no però 3 sì tutte quelle cose 3 3 le cose standard che potreste trovare nello zaino di un avventuriero le avete ok? Non un fodero non 50 torce non un fodero se è magico se è magico e se non è scritto nell'equipaggamento dovete però scegliere tra armatura pesante media e leggera media scudo e armatura pesante ha un vigore minimo di 4 media di 3 leggera di 2 se avete vigore 1 puoi prendere solo uno scudo scudo con lo scudo prendi un'arma a mano yes tanto non le uso io ho preso armatura media armatura a mano a mano no no aspetta se lui decide di mettere 16 punti divisi come vuole e ha uno da qualche parte esatto può anche mettere 16 no ma non può mettere 6 a una statistica sì perché no? da quando? non c'è scritto sul manuale che c'è un limite pensavo fosse 4 il limite no la questione è se vuoi un personaggio equilibrato che non è troppo sbilanciato in una cosa e quindi è incapacitato a fare qualcos'altro perché se metti 6 da una parte qualche cosa da un'altra parte vuol dire che è quasi possibile e io ho messo infatti ho messo 0 sapienza cioè io sono schiavo ho 1 e 1 vuol dire che tutte le volte che tu mi dici io voglio fare questa cosa è un tiro di 60 sai che fare a meno che non usi un filo a meno che tu non usi un filo perché il minimo per arrivare a un successo è 7 cioè un dado da 6 che fa 6 più la tua caratteristica che deve essere io ho deciso che il mio personaggio va con il flusso accetta quello che gli arriva non sa cosa succederà se tu vuoi fare un personaggio ignorante oppure che è completamente privo di capacità di nascondersi e di agire silenziosamente mi vuoi dire io ho prudenza metto 0 perché sono uno che si getta testa bassa in qualunque cosa senza durarsi delle conseguenze va bene non è mai prudentemente prudenza però è anche fortità sì non sarei mai furtivo sarei sempre il barbaro che carica testa alta urlando vaffa cola a testa bassa ma a testa alta per l'ego esatto è un po' complicato allora ok non pensavo quindi scusa io però posso mettere allora 7 in un'abilità non fallirò mai anche con 6 chiaro però fallirai se vuoi fare poi se c'è una cosa che implica una prova di volontà e tu hai messo 0 fallirai automaticamente non c'è modo che tu possa beh ma io posso fare 2, 2, 2, 2, 2, 1 e 7 a 1 e quella non potrò mai farmi vedere sì anche con 6 non lo sai non lo sai non lo sai anche con 6 allora posso avere tutti i due un 6 sì però tutti i due vuol dire che quella cosa lì è molto semplice devi far 5 beh io ho fatto qualcosa simile cioè sono sbilanciato verso scendente a prudenza oltre a questa armatura e arma che avete e tra l'altro non sai ancora fare i conti perché ne avessi 15 ma no eh già 2, 3, 7 più 5 12 più 3 15 mamma aiuto ma lo sai è perché la tematica non è forte in questo ragazzi ma noi sappiamo che la matematica è difficile come chiamo a prima era impossibilità da fare 5 più 3 o multipli e la cosa bella che aveva sbagliato nella mese 17 dicono scusate corretto 15 16 è impossibile e numero pari in realtà le avevo messi 16 e mi sono e non è faccio comunque sta recendo come roba ho quella cosa per qui la mia spada è bastarda ergo posso utilizzarla a una o due mani a seconda se ho lo scudono che differenza fa tra un'arma una mano e due mani in realtà in caso non importa che sia una spada o una barda un arco una balestra o un masso se ha una mano fa un danno se hai due mani fa due quindi un arco fa due danni un arco fa due danni una balestra una balestra però la balestra con un danno ogni personaggio comincia con una pozione di guarigione sempre avete 25 monete d'oro che però per volontà del manuale non si sa quanto valgono queste monete d'oro potrebbero essere 25 giorni di pasto o 25 euro o 25 euro ok cioè quello che spendeva stasera su oltre in birra esatto e oltre a questo ogni personaggio ha una reliquia le reliquie sono degli oggetti sono simili alla cosa unica di tredesima era nel senso che sono degli oggetti che voi volete facciano parte in qualche modo della storia sono degli oggetti che solo voi avete e sono degli oggetti rilevanti per il vostro personaggio alcune voci nella forgia dicono intanto qualcuno salve il ragazzo saluto all'appietro qualcuno dice Claudio viene un'attività lezione di aritmetica che tra l'altro è un professore quindi ok si e un'altra molto bella voglio giocare scusa è una molto molto bella di Alessandro che io condivido appieno che è ma la spada bastarda è Chris che vi forse fai che la botta fai che la bignotta esatto sì un po' sì quindi quali sono le vostre relique guardo che sono di qua allora la mia relique è un enorme croce di metallo strano strano che sia di metallo ok che mi funge da scudo fungi da fungo o fungi? fungi fungi spero non porti funghi i dipanti i vogli i picchi altitanti al cui che mi serve anche da zaino perché ci si attacca la spada bastarda e tutto il resto è pesantissima la posso portare solo io no perché sono praticamente forte a parte quello a parte quello a parte quello ok e una volta che stacco la spada dalla croce la croce diventa una specie di scudo torre e la spada è un po' come se avete visto traigli il reverendo esatto è il reverendo se mi chiede senza pistola ma con la spada ma con gli schiaffi va bene il reverendo interpretato da Densil sì assolutamente sì con gli occhi azzurri il capello biondo che giustamente lo rende più carismatico allora nel mio cuore è piantata una braccia un battito d'amore non dirmi batte perché sinceramente lei mi preoccupa come si dice è piantato ferramente un tizzone una braccia ardente che è lo spirito di una felice ti brucia mi brucia un po' ma mi rende anche particolarmente felice perché praticamente o felice quando invece che morire un stionato orrendamente questa felice che stava nascendo in quel momento è quello che ha dato fuoco alla locanda ok mi ha scelto mi ha possibuto smettila tu è in metallo ok stai facendo tutto da solo lui non ha detto nulla come colpare a parte la grande croce di metallo ho messo la premessa la grande croce di metallo stavo dicendo che la felice ha scelto me io sono il suo caffio di prescelto e da quando questa braccia mi brucia nel petto io riesco a vedere il vero cuore delle persone ok sono un ladruccolo come background diciamo ma questa cosa nonostante io non sia molto cambiato nel senso che sono sempre stato uno un po' capace da nosvicolare molto molto prudente attaccato alla mia sopravvivenza mi ha portato l'ascendente da probabilmente uno a cinque e ho cominciato a manifestare potere ho sentito in 65 e lo dobbiamo le stats le stats le virtù non le stati non farmi questa domanda la risposta è sì però io no e direi sempre lei una c'è no cazzo ma allora io ho detto che facciamo un overlap sono buonissime come gli hamburger in questo posto come potete venire a mangiare i bere e giocare sono tutti belli gli hamburger vanno da il tauren burger al trip to d'arnassus ai sardi incantati c'è tutto bellissimo e le birre le migliori sono check norris e la space frontier ma vedi vedi io ho un gioco io ho chiuscito le altre due space frontier no ma io ho io ho vorrei una altra bottiglia di Stout ma poi me la offrono perché e che problema è un'altra bottiglia di quella Stout che butterebbe Ares Ares allora è di un terrificio che si chiama Epica ed è siciliano si fa la Ares si chiama Epica è sicuro e quando ti vedo ti dico ma siete perito prendi una Ares per favore vecchio che è veramente ma la porta la cassa va la mia reliquia è una fiuma di corvo utilizzata dall'ultimo nato spazio del cantastorie che si chiamava corvo ed è ha praticamente assorbito tutte le coscienze dei cantastorie del passato scrive da sola a certa dettatura e continua a tramandare le storie che vede si prende le sue licenze chiaramente e a volte scrive anche le cose di cui io non vorrei che scrivesse però tipo ma quanto è bello incrociato no tipo che faccio una figura di merda da qualche parte e lei scrive ok giustamente perché ci penserei dopo queste è un lavoro di editing molto complesso dopo capisco dopo questi dettagli viene il punto del da dove viene il personaggio allora c'è una ambientazione vagamente definita nel senso che il gioco è ambientato il gioco lo vedete la piantina la vedete qua in realtà i posti segnati sulla mappa sono pochi e sono volutamente pochi c'è un ultimo regno che è il regno di Telomin che è l'ultimo territorio che non è ancora caduto sotto la corruzione della notte eterna da cui partono i personaggi c'è un punto particolarmente importante che è il tempio dei tessitori che sono sostanzialmente quello che normalmente sarebbero i chienci che si dedicavano a fornire profezie per aiutare il re a governare il proprio regno da 70 anni non vengono più emesse profezie nessuno sa perché nessuno sa per quale motivo è possibile probabile il tempio dei tessitori è uno dei pochi posti importanti che rimangono ancora vivi nel regno da dove voi arrivate è importante per il vostro personaggio ma necessariamente per il mondo per come lo conosciamo quindi ci sono delle città dei punti di interesse tipo la Torre dei Saggi la Cattedrale dei Caduti le Rovide di Oceani e mi potete anche dire no io arrivo da Sfranzacool da Astrafil per esempio no Astrafil non esiste no e neanche come che era l'altra Merfix ti formerò una città e la chiamerò Astrafil ti vogliamo bene Simone ma i nomi i nomi no io comunque vengo da nord del santuario della notte eterna i miei genitori erano come si chiama l'imperiale l'impero quelli che non credono dei tessitori i recisi i recisi i miei genitori erano dei recisi e essendo lì la vita banale e stupida l'ho abbandonata per andare al sud perché io sono sicuramente scelto dal destino e di fatti questo risponde anche chi è della mia famiglia sta benissimo lì ma non me ne frega niente e perché me ne sono andato perché sono dei banalotti ignoranti perfetto rael io vengo da uno qualsiasi di questi posti ok dove ho cercato di sta per arrivare qualcuno io non sento i sensi di raggio io ti annuncio esagerato oh mio dio che bello che sono ma perché mi piace un sacco non perché sono migragnosi di merda ti giuro infatti ho preso due hamburger però non ce la faccio è buonissimo grazie a te un bicchiere poto per merito mi sento uno stro aspetta ho detto stromboli è diverso no al momento soltanto voi quelli che rompono e cogliene sulle parola al momento cosa grande non abbiamo i bicchieri della forgia ma li abbiamo di sopra e poi quelli facciamo vedere perché abbiamo i nostri bicchieri ce li portano giù forgiati grazie forgiati grazie Claudio grazie Claudio grazie forgiati grazie Claudio voglio chiedere una domanda al pubblico come stanno andando abbiamo ancora iniziato ma la madonna c'è gente che continua a interrompere con domande del cazzo e pane granito è micragnoso sul suo lavoro strano allora io ho 100 pagine devo farle a durare il più possibile ma come mai ci sono due o tre pagine inglese lascia stare perché questa è la primissima specialissima inizio allora questa è l'edizione Fumble 200 è l'edizione speciale con due pagine inglese va bene ok sono fatte perché così io devo leggere in inglese perché se no si chiamava 1-200 giustamente allora io vengo da Woodward nella grandissima capitale ero uno sfigatissimo sono nato praticamente cioè sono nato nel senso sono cresciuto non sono non so se sei nato orfano immagino che tu sia nato e cresciuto sono nato orfano stavo per dire se sono nato orfano è difficile sono nato e cresciuto e fino a qui penso che chiunque ci può seguire sono nato malissimo senza i genitori me la sono dovuto cavare come potevo perché me ne sono andato perché stavo male 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 al cazzo dove sono finito in una locanda che poi ha preso fuoco mentre cercavo di rubacchiare qualcosa ma poi dopo il mio destino è cambiato la tua famiglia? la mia famiglia non l'ho mai conosciuta proprio perché io sono nato cresciuto ci sono cresciuto sono nato cresciuto sono nato cresciuto ragazzi voi fate bere non bevo cazzo io sono cresciuto spalleggiato dagli altri vagabondi di strada che hanno impedito che io morissi di fame dandomi dei tozzi di pane degli avanzi fino a quando sono stato abbastanza grande da rubare quel poco che mi serviva per sopravvivere di giorno in giorno mi sono fatto un pochettino più abile e sono diventato un ottenuto di strada e poi la perita è cambiata quando la fenice mi ha scelto quindi adesso vai a dare fuoco ai posti io non ho mai conosciuto bene la mia famiglia mi dicevano che fossi figlio del prete ma la mia certezza è che mia madre era una piccola puttarella all'interno oh che bello bestegnare i quattro modi diversi ciao a tutti i don di Italia esatto merettrice si dice comunque anti di femminismo no no è una puttarella anti belli patetica perché mi dice dopo aver insultato la religione anti di femminismo buttati ai porti è molto femminista poter dire che una donna può essere una puttarella piccola però e con questa io vi saluto ciao buona notte come un uomo mi saluta quando non fa guardate di quelli purtroppo grazie ciao l'hai messa explicit questa con Giulia e Giulia ci parli tu molto bene Giulia e Giulia se li conoscete sono quelle di del podcast femminista che giustamente ci manderano senza rossetto nella cabaretta è quello comunque tua madre era una signorina particolarmente esinebita faccia l'anima sua da mio padre come un uomo può essere una piccola testa di cazzo un piccolo cazzo o una grande testa di miccia il compenso siccome appunto mia madre non stava troppo bene per le voci che giravano nel quartiere ho bellamente strozzato il prete mi sono preso il crucifisso e il crucifisso è la reliquia appunto di cui dibattevamo prima ma non è folle come costellazione è custode e questa è una cosa interessante Claudio l'ha scoperto a metà serata si strozzi il prete da custode che cazzo fai da folle la prossima domanda è a cosa è destinato il mio personaggio ora ne parliamo la domanda a cosa è destinato un personaggio è una domanda aperta perché nessuno sa esattamente quando voi consumerete l'ultimo filo del vostro destino perché sta alla vostra scelta ok però ognuno dei vostri personaggi è nato sotto una costellazione che ha un effetto sulla vita di una persona potrebbe essere che come tutti gli arieti siete testardi oppure come gli scorpioni siete difficili in amore oppure potrebbe essere che siete nati sotto il segno del cantastore quindi vi piace parlare siete nati sotto il segno del guardiame quindi malgrado voi vi sforziate di disinteressarvi di ciò che vi succede intorno volete proteggere qualcosa nel bene o nel male ok strozzando tipo la madre certo guarda che tu sempre però poi io lo sei però con un senso nonostante io abbia scritto una classe per ciascuno di voi e solo uno di voi avrà scelto effettivamente la classe che ho scritto per lui domanda ah ok va bene mi sembrava allora ci sono sette costellazioni che sono il sette tu ah solo io il sette eroi del passato no lui era il decennale e poi ha scelto l'altra lui era il decennale e poi ha scelto per una cosa eh io avrei scelto quella però ho detto eeeh ci arriviamo al sette sono tutti buoni hai deluso il master essendo il master non mi ha deluso si 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 vede dalla tua faccia no le sette costellazioni il rupare ecco ho fame si scusate le sette costellazioni che guidano gli eroi sono il campione il cantastorie il cercatore il distruttore il folle il guardiano e il saggio io sponsorizzo il folle ve lo dico se vi hai piaciuto il mio personaggio il folle regolarizza qualsiasi cosa gli abbia fatto io invece sponsorizzo come pg più forte di tutti l'istruttore perché l'ho giocato e secondo me è uno dei più belli ma ho scritto queste sette costellazioni avendo in mente anche il viaggio dell'eroe quella teoria per cui tutte le storie sono riassumibili in un'unica tipologia di storia che ha degli archetipi all'interno da cui derivano direttamente queste costellazioni sembra il campione più figo aragorn è il guardiano o il cercatore il cercatore allora partiamo da Amanto che aveva scritto il folle ma che ha scelto il guardiano perché fare folle mi sarebbe stato troppo semplice ridondante e comunque dovreste aver capito ormai dalle ultime stagioni che io sto cercando di cambiare abbiamo fatto l'intervention non di cambiare ma di dimostrare il senso di fare anche il resto ciao sono Matteo e non sono folle e non ammazzo qualcuno senza motivo dall'altro chiedi ecco la tua trenta giorni per l'appunto ha scelto di fare il custode guardiano guardiano il custode non esiste il guardiano da definizione del manuale lui ha scritto custode è altruista e disinteressato mette in pericolo la propria vita continuamente per proteggere i deboli e ciò in cui credere arrivando a sacrificarsi per un altro se è l'unico modo per assicurarsi la salvezza degli altri è l'unica costellazione che muore quando non è il suo momento io l'ho interpretata nell'accezione soprattutto dell'ultima frase e mezza che è un sono disposto a sacrificarmi e proteggere qualcuno per il bene degli altri è esatto questo non un sono il palino buone ragazzi quello è il campione ecco è un'altra costellazione è il campione io ho scelto qualcuno nella fattispecie la france è come mio fulcro per cui per me lui può fare del bene nel mondo e quindi io proteggo lui perfetto grazie pregoci invece Alexander è un canta storie Alexander è un canta storie in realtà è più che un canta storie non più che andare in giro e raccontare storie di gente o di altri lui vuole fare la storia di qualcuno essere colui che ha scritto o ha presentato la più grande storia del più grande eroe mai esistito e lo sta cercando pensa di averlo trovato in Rael il diciamo che è già un autore molto famoso ha scritto svariati libri che sono conosciuti in tutto il mondo poi quello lì in caso entrerà in gioco comunque tra gli avventurieri soprattutto è molto molto famoso ha deciso grazie anche alla piuma ha deciso appunto di seguire Rael perché ha visto che c'è questa scintilla che può portarla a grandi cose e tutta la sua più grande abilità è che lui è sempre come la frase più famosa dei bardi nessuno ricorderà il nome del bardo ma la storia rimarrà per sempre lui è molto prudente il 5 in prudenza e tutto quello che fa cerca di visto dall'esterno nel gruppo potrebbe sembrare che è uno che non fa niente perché sembra che in realtà tutte le cose le facciano loro un po' come i giorni questo se l'avete visto in cui il bardo deve restare appena al di là dell'azione però io interferisco ma interferisco cercando di far credere che in realtà siamo stati loro stessi a fare quella cosa e da manuale il cantastorie non è mai da solo ma chissà perché si trova sempre coinvolto nelle storie che tutti ricordano il suo talento poliede e quella sua parlantina sciolta hanno tolto dai guai altri eroi molte volte e io come abilità principale ho preso tutto fare che posso barare le specializzazioni per le volte mentre Rael io sono nato sotto il cercatore io in realtà non mi sento non mi sono mai sentito un eroe ma come spesso capita i fatti attorno a te ti portano su una strada che poi in un modo o nell'altro comincia a diventare la tua il fatto che un cantastorie famoso come Alexander mi si Alexander o Alexander o Alexander o Alexander abbia deciso di raccontare le mie storie il fatto che qualcuno abbia come Lothar forte e potente come lui abbia deciso di mettersi a mia difesa e il fatto che quello che mi sia successo mi porti a cambiare la vita delle persone mio malgrado sta cominciando a farmi riflettere il mio essere un cercatore è vero cioè è soprattutto una ricerca di qualcosa che c'è fuori ma anche di qualcosa che c'è dentro di me e inoltre il mio istinto di ladruncolo e di sovravvissuto comunque non vuole tacere e per Claudio io avevo in realtà scritto il campione ma poi gli ha scelto il cercatore che era indeciso senti questa frecciatina no non la sono presa ma la parola allora io ho detto scendo il campione poi l'ho visto testare altre altre costellazioni con altri gruppi quindi non vi preoccupo però quando ho scritto questo ho avuto in mente le persone che non mi giocavi tu pensi che oggi mentre leggevo no io ero ieri o oggi il form che ho scritto ieri leggevo la parte del form ed è un bellissimo figliata peccato che ho già pensato al pg però bellissimo per me è stato metà in metà io ho detto il campione faccio il campione voi l'ho visto è toccarsi non posso fare un altro paladino io invece sono l'unico che apprezza il lavoro di Claudio e volevo fare il distruttore ma quando ha detto ah io ho fatto queste cose scritte apposta per voi sono andato sul cantastorie vedi che io sono giocato ai migliori avessi dei peggiori in realtà è andata ancora diversamente perché io non ti ho detto che il cantastorie avevo scritto per te hai scritto per te bellissimo il cantastorie io sì ho scritto per te ok perché io sono bravo e voi no il cercatore è un astuto esploratore dotato di riflessi polminei e di uno sguardo a cui non sfugge assolutamente nulla quindi è lei o la spiega non solo riesce a trovare i segreti più nascosti ma sicuramente è già trovato qualcosa in grande di aiuto non ho mai sentito cosa vedono i tuoi occhi taramingo cosa vedi in mezzo a questo campo di battaglia qui hanno caccato e hanno riportato il canadama perché il ranger l'ha fatto scuola con le prese il colpevole è il maggior dolore esatto ma quello era lo sguardo il vestito da hobbit una volta risposto a queste domande ti ho citato i piedi sovri un cazzo si riesco a giocciare a prendere i cazzi non prendere prendere la pancetta non mangiare i cazzi ma c'è prima lui sta contando visto come sta facendo per la dieta sono a dieta non posso mangiare non ha mai così prima sei hamburger mi ha fottuto il pane adesso sta continuando quando tu hai detto pancetta ci ha pensato sto perdendo peso o no? cosa vuole te devi metterlo su la terza fa berra sai che con tre che prende due hamburger hai buttato tre mesi di lavoro un mese no io vorrei invece due banale non credo funzioni così banale è il campione si è legato agli ore come il goco non ha pensato in folle comunque comunque una volta risposto a queste domande mi è risposto tutto il vostro personaggio è fatto sì è bello la scheda è grossa quanto il manuale qui è una facciata a 5 è una meraviglia di qui la seconda facciata sono soltanto le capacità di scritta quindi non dovete neanche andare a spogliare secondo me una cosa che Claudio non ha detto per ogni costellazione ci sono delle capacità delle peculiarità sono i set effetti del destino esatto che sono una figata assurda e non mai mi sono cose e muori allora sì mai visto cose così azzeccate c'è un lato della questione che è quando arrivi a consumare il tuo ultimo filo del destino vuol dire che hai raggiunto il tuo potenziale hai fatto tutto quello che potevi fare hai ancora un combattimento o una scena prima di morire alla fine di quel combattimento o di quella scena sei riuscito assolutamente in maniera epica a fare quello che volevi fare ma poi muori diciamo che effettivamente queste abilità che ce ne sono sette tu puoi prenderle inizi con una a meno che non fai la origin story che è una una regola opzionale inizi con una poi tu volendo puoi usarla in due modi o la usi quando ti serve e quindi la sblocchi e ti togli un filo e quindi inizi ad andare verso l'accomplimento del tuo destino oppure puoi anche usarla anche se non c'è niente più riuscire automaticamente in qualcosa però comunque ti appiccini sempre di più alla sua fine io ti dico un occhio oppure delle punti ferite rimasti perché ovviamente che vengono 8 in tutto i punti ferita sono pari a V2 il che vuol dire che il personaggio più debole in assoluto del gioco ha 2 punti ferita il più forte in assoluto ne ha 18 certo però è una 6 non fa niente però le puoi pegliare schiaffi di mancazzo 1 con 16 in vigore sì e 0 in tutto il resto è un golem praticamente disattivato o no però è un golem che non sa neanche colpire perché non è accurato è il robo edonista è il robo edonista è banalissimo no perché lui un po' di ascendente ce l'ha hai ragione hai ragione è una macchina da guerra un pezzo di pietra buttata che però sa combattere solo con i due quindi solo correndo addosso alla gente e sbattendoci addosso sì assolutamente ma non è manchere in realtà la media dei personaggi vuol dire che ha 6 punti ferita 4 6 punti ferita ok quello che stanno ascoltando è FAMBO grazie è sempre FAMBO voglio dirlo anche io grazie la storia di questo speciale inizia una mattina è una tarda mattina ormai voi eravate tranquilli in una locanda mentre mentre cercavate di dimenticare le settimane precedenti che mi hanno portato ad affrontare nemici che pensavate fossero insormontabili ma che per voi non erano un grosso impedimento e mentre siete seduti a un tavolo a sorseggiare birra e a mangiare di prima mattina stufato becchia avevamo combattuto avete mangiare stufato e sorseggiare e sorseggiare birra sentite fuori dalla finestra della locanda dove alloggiate un rumore cubo basso delle vibrazioni che vi smuovono l'intestino un rumore un rumore che richiama qualcosa di primordiale quasi di celestiale e affacciandovi alla finestra della locanda vedete io mi affaccio mi sbatto la testa sul tavolo io mi affaccio subito una 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 cometa che cade a centinaia di chilometri probabilmente da dove siete voi vedete solo una scia luminosa nel cielo e sentite il della fiamma che brucia l'aria intorno alla cometa finché in lontananza molto lontano da dove siete vedete la cometa cadere per terra sentite dopo qualche minuto una vibrazione come un'onda d'urto che smuove i boccali e la birra all'interno della locanda e vedete sempre a centinaia di metri a nord da dove vi trovate metri centinaia di metri ah ok per quello che ne sapete voi potrebbero essere qualche chilometro una colonna di fumo che si alza da dove pensate possa essere caduta questa cometa che avete visto speriamo non sia un cast off del changing god che? niente una storia vecchia stiamo giocando a luminiera una storia vecchia cosa c'è cosa avete visto la finestra di prima mattina penso che possa essere una storia nuova in realtà non sappiamo tu? no io non c'entro decisamente niente però non c'è il riposo per gli eroi un giorno un giorno di pausa non puoi prendere delle ferie ma non siamo in ferie eh appunto non si risponde Alexander troppa curiosità che cosa sarà quella roba dai andiamo a vedere sei sicuro che vuoi andarci? non vuoi andarci domani magari? domani potrebbe essere tardi ma non ci metteremo più o meno un giorno almeno ad arredarci? ma non lo so dai è qua dietro dai è qua dietro andiamo a dare un'occhiata giusto per capire cos'è un'altra oltre qua dietro ci abbiamo messo quattro settimane ci siamo arrivati no? si ma dopo quattro settimane ancora quattro settimane di cibo al sacco no siamo in locanda adesso possiamo ordinare quello che vogliamo tanto comunque ci stanno regalando tutto non è problema ma lo buttiamo ci dura tre giorni ma vediamo cose conservate e appunto quindi parlo al sacco dai su dai andiamo ragazzi coso inizia a scrivere e mentre gli eroi si preparavano per riposarsi dopo una lunga avventura il vero protagonista ha deciso di andare a vedere c'era gente da salvare e voi vedete una piuma di corvo che si intinge da sola negli inchiostri e continua a scrivere su una pergamena voi mi vedete osservare Alexander comunque ammirato perché secondo me il suo eloquio è fantastico ma vedete anche il mantello che comincia a sollevarmi sì perché quando sono un attimino irrequieto o voglia di vedere cosa sta succedendo dell'aria calda come quella di un camino che solleva le braci mi solleva il mantello la volontà attente dell'eroe era chiara dovevamo indagare fine del capitolo la piuma di corvo si sposta un attimo perché è spostata dal calore che Madarael deve ritrovare l'equilibrio e poi scrivere l'antico basso non è una sola quindi no l'antico basso era un'altra volta non ti ricordi quella cosa che sembrava impossibile fine del capitolo tante però ce l'abbiamo fatta tu eri ubriaco anch'io ubriaco strano non succede mai io mi bevo la birra alla goccia e quindi mi bevo la metà esatto vogliamo vedere cosa succede vogliamo vedere cosa succede ma cavalli li abbiamo ancora no? dovremmo no sì certo che li abbiamo ancora ve li vado a sellare dai così potete riposarmi un attimo no c'è bisogno di riposarsi se mi chiedete devo ancora finire i due ritri l'unico problema in realtà dei cavalli è che non ti cacchino con quella sulle spalle ma infatti abbiamo un mulo per quella no? te lo vado a preparare d'accordo sarà contento il muro un mulino quando esci e vai verso il muro da preparare da sellare da mettere le sacche per trasportare le cose vedi che in lontananza la colonna di fumo che sale da dove dovrebbe essere caduta la cometa che avete visto sta riempiendo il cielo e sta iniziando a offuscare il sole che timidamente faceva capolino tra le nuvole di questo tardo autunno già abbastanza buio e abbastanza nuvoloso abbiamo dei cavalli? certo che abbiamo dei cavalli io mi sono messo a sellarli mentre li sello stringo le redini perché stringo le cinghie del selle per essere sicuro che possiamo viaggiare tranquilli perché comunque io ho ancora un eroe in qualche modo non ci sento e comunque posso fare qualcosa di gentile per i miei compagni di avventura comincio a chiedermi che cosa ci sarà lì lì oltre quello che possiamo sapere quello che possiamo dire sta facendo tutto questo che se gli pensi io sono in un angolo che di nascosto con un po' di magia gli faccio lo aiuto a sellare i cavalli perché immagino che uno con zero in sapienza non sappia bene come si selli un cavallo ha buttato tipo la sella sulla testa io ho fatto un po' di elementarismo con un po' di dare l'ho fatta scivolare ho allacciato le cinghie sotto mentre lui guarda verso l'orizzonte e fa i suoi pensieri io ando dietro che faccio micromenagement peraltro è una cosa che mi stavo chiedendo dopo che ho conosciuto Alexander in effetti non so se è soltanto per quello che racconta di me e spero di non essere diventato troppo narcisista ma io mi sento un po' più un eroe perché cazzo faccio delle cose da eroe per molto meglio e mi ci sento proprio in qualche modo in qualche frangente un eroe certo c'è una bestia di due metri con una croce di due metri e mezzo che pesa due tonnellate che mi pare sei un po' di sicuro se no mi sento più sicuro sapete che la mia croce io non la appoggio alle porte o agli elementi di legno non so più sicuro che te tengono su esatto e niente le cose mi riescono meglio ma forse sarà l'autostima cioè chi lo sa e io intanto cerco di ascoltare me stesso e quando dico me stesso in realtà intendo lo spirito della felice che sto ospitando perché so che a volte non sempre ma a volte lei ha qualcosa da dirmi perché la sua vista va bene oltre a quella che è la mia voglio fare un tiro di divinazione ok allora gli incantesimi come funzionano dimmi tutto cosa è importante volevo cercare di non c'è differenza in questo gioco tra magia e tecnologia nel senso che come diceva Arthur Clarke la magia è tecnologia che non sappiamo spiegare esatto quindi tutti gli effetti di magia tra virgolette di questo gioco potrebbero essere ugualmente magia o tecnologia a seconda di come li descrivete sono divisi in delle scuole per parlare alla D&D che sono abbiurazione ammagliamento comunicazione dislocazione divinazione elementalismo guarigione illusione e trasmutazione questi sono gli effetti base qualunque cosa voi lanciate ricade più o meno in uno di questi di questi effetti e a seconda delle vostre specializzazioni potete dirmi no io stavo cercando di fare più x in modo che fosse più una questione di fuoco piuttosto che di guarigione quindi ho il vantaggio o lo svantaggio ok tu in questo caso stai cercando di fare un effetto di divinazione esatto la divinazione ha due virtù consigliate come virtù da usare per effettuare il tiro che sono sapienza e prudenza io sono giusto per dirvelo io ho alta prudenza perché sono appunto un bruncolo di strada e per me sapere cosa sta succedendo quali sono i pericoli possibili avere un istinto di pancia su quello che potrebbe riservarmi il futuro è una cosa su cui ho sempre fatto molto affidamento ma non sono istruito io ho messo sapienza zero quindi falliro di sapienza soprattutto perché parto non istruito parto da un ruolo di strada a cui nessuno ha insegnato niente se non la pratica coddiana ma soprattutto continuo senza avere nessuna genere di istruzione perché da che ospito la felice io ho cominciato a prendere le cose come vanno io non voglio conoscere niente io voglio semplicemente vivere le cose per come succedono io tiro su prudenza perché quello che voglio sapere e quello che voglio capire è che cosa ci aspetta lì davanti sono grandi pericoli grandi opportunità c'è qualcosa da cui dobbiamo guardarci le spalle come posso proteggere i miei compagni visto che io sono un eroe e fa loro pane faccia ogni meno soprattutto Alexander allora per come funziona questo gioco nello specifico il come voi descrivete l'azione che volete fare implica delle conseguenze per cui se mi dici lo faccio su sapienza perché voglio sapere che cosa c'è oltre perché l'ho studiato sì meteorite che mi dicono che cosa c'era eccetera eccetera è un conte se tu mi dici voglio capire quali sono le percezioni che sento provenire dal futuro se sono male o bene è un'altra questione di prudenza esattamente tu in questo caso stai usando prudenza quindi fai un tiro di prudenza è un dato da 6 più la virtù che hai ok io posso usare un filo del destino per attivare la profezia allora i fili del destino li potete usare ogni volta che il tessitore vi propone un tiro di virtù ok voi potete dire io non voglio rischiare questo tiro voglio essere sicuro di riuscire consumo un filo e ci riesco ok ok e le caratteristiche del cercatore come funzionano? le caratteristiche del cercatore funzionano anche quando scegli di consumare un filo del destino ok riesci nell'azione che hai descritto a prescindere da quale fosse una volta che sei riuscito in quell'azione quel potere che hai scelto come filo che hai consumato rimane con te per sempre benissimo allora come ogni storia che si rispetti all'inizio di una storia l'eroe non tira ma invece semplicemente prosegue ce la fa perché? perché è ciò che sta cioè fa succedere ciò che serve per far partire la narrazione quindi io consumo il primo filo del destino è già consumato? pardon sì allora a meno che voi non facciate una sessione una sessione apposta che si chiama origin story in cui partite da zero partite con un filo già consumato per poi che hai messo nella strada per diventare esatto è quello che ti ha messo in direzione di essere un eroe potrebbe essere qualcosa che è successo nel tuo passato potrebbe essere semplicemente che le azioni che hai fatto ti hanno portato in un punto da cui sei poi partito potrei anche prenderti profezia senza consumare il secondo ma lo faccio volentieri di consumare il secondo io ho preso come si dice cercami questo semplicemente perché è una cosa ve lo leggo quando lo usi è molto bello farlo vedere quando lo usi ok perfetto allora ciò che succede adesso è che c'è qualcosa che mi sembra importante d'accordo questa cosa che è successa non è di tutti i giorni non l'ho vista in tutte le avventure che abbiamo vissuto assieme mi sembra qualcosa che in qualche modo mi segnerà e sento che mi sta avvicinando in qualche modo al mio compimento mi sento già riconoscermi di più ascolto cosa mi sta dicendo la fenice e utilizzo bruciando un filo utilizzando un filo del destino la mia capacità di cercatore e profezia ovvero quando uso un incantesimo o gingillo di divinazione per scoprire cosa sta per succedere posso fare al tessitore un numero di domande pari al mio punteggio di prudenza minimo due invece che una sola domanda il mio punteggio di prudenza è quattro quindi ovviamente in maniera conforme a quello che ti ho detto mi chiedo lo devi far tiro prima no ho consumato il filo ce l'ha fatto automaticamente mi chiedo e usa questo potere uno le fai ad altavoce le domande? le fai ad altavoce le domande? sì probabilmente io ho ancora imparato molto bene a parlare a rapportarmi con la fenice lei parla nella mia testa ma io tendenzialmente parlo ad altavoce e mi guardo semplicemente all'orizzonte il cielo che si sta oscuorando e mi chiedo ci aspettano molti guai con lo scrive tutto vedi che la penna inizia a muoversi davanti a una ferramena intingendosi in qualcosa che non esiste perché non c'è una boccetta di un chiostro ma si intinge e inizia a scrivere e mentre tu fai le domande lei scrive le domande e scrive anche le risposte che tu senti nella tua testa bellissimo io non le vedo però le dico scrivi tutto la risposta alla tua domanda è sì e una no altre tre cos'altro poteva domandare l'eroe in questo momento Rahel si pose una domanda o la pose ai suoi antenati nessuna bella mi piace Corvo bella bella cosa posso fare per mettere al sicuro i miei compagni guidarli nel momento del bisogno indicare loro la strada mi hai guidato fino a questo punto deliberatamente sì e non è ancora finita profezia manifesta è una nota tra parentesi c'è anche che mi ha aggiunto dalla penna di Corvo profezia manifesta accusa non richiesta accusa non richiesta non ti farò altre domande cosa vuoi dirmi sfrighati punto esclamativo uno punto esclamativo uno uno punto esclamativo sci e chimiche con la k sci e chimiche mi volto verso controlla che lot sia a posto e che sia tutto a posto qui finisco io vedi che mentre annuisco compaiono sui miei ai bordi dei miei vestiti ai bordi del mantello su tutte le asperità del mio viso che è abbastanza affilato compaiono delle delle bruciature simili a quelli simili ai bordi della carta bruciata quando tipo la bruciata con l'accendino ok ed è alimentata dal vento che soffia sai che quando succede questa cosa io sono particolarmente mostro interiormente è successo mi è successo qualcosa dirò un'altra cosa il cercatore è ispirato a question della DC Comics ah beh quindi su su abbiamo fretta no? pare di sì e allora vai a chiamare veloce? lotter vai dove sei finito? entro ok io li metto a sistemare tutte le selle e tutto quanto a mano perché sono completamente totalmente sballate ma ti rendi conto che il cucciolo di Drake che cavalcava a Fenice si era tolto completamente qualunque tipo di sella sacca eh briglia ha buttato tutto per terra e si stava masticando dei pezzi della locanda lo vado lo riprendo partitato se eh ci metto troppo tempo prima che arrivi lui uso la magia per barare ok il pollo gigante che usava invece eh lotter è tranquillo in un angolo ha evidentemente dato delle zampate a qualcosa perché c'è del sangue sulle unghie del colo gigante dislocazione di lo tolco o anzi elementalismo acqua ma ti sembra tranquillo cioè una volta che ha definito il suo territorio è andato tranquillo per i fatti suoi e allo stesso tempo il tuo mulo che era quello più tranquillo e pacato ti sembra che si sia ricavato una nicchia da cui ha tenuto lontani gli altri due io li sello li sistemo e cerco di rimetterli anche nella stessa posizione in cui erano in modo che lui non si accorga che io ho sistemato tutto ok lotter Alexander ha ragione qua abbiamo da fare dobbiamo andare certo ma fammi passare le birre un attimo ma che hai fatti passare ho sellato tutte le stelle insomma porca vacca dovrei essere io l'eroe sto facendo il lavoro di nuovo domani hai sellato le stelle ho sellato i cavalli insomma il mio tre ha cavallato le stelle ho cavallato le stelle ho bevuto anch'io insomma allora hai caricato la croce no la puoi caricare soltanto tu la croce lo sai lotter e anche questa croce anche questa croce ok Johnny Johnny parlo nullo Johnny stavremo stavremo Johnny non è la tua calca quella è no lotter quella è la mia se ti vuoi dire qualcosa fai pure no la tua la tua la tua dove tu è un pollo gigante di due vetri e mezzo ascendente dieci come ho fatto a confonderti non lo so ascendente dieci ti guardo negli occhi lotter dobbiamo andare ok andiamo mi carico la croce sulle spalle e salgo sul cavallo che non è un cavallo è un pollo è un pollo è un taccino di due vetri e mezzo un ciocobo un ciocobo io lo chiamo cavallo perché è il nome del ciocobo cavallo è bello io mentre salto c'è un pollo a partire intorno a una musichetta che è certo che partire la mattina alle dieci e mezza non mi farà una buona idea neanche bere bene alle dieci e mezza meno chiacchiere più viaggio ma stiamo viaggiando se non chiacchiere mentre viaggi vi avviate verso nord ok qualcuno ha pagato chi beh torneremo vi avviate verso nord cioè verso loth lorot che è casa tua no lorot si è fatto male loth lorot 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 il nord è una grande foresta che divide il regno di Telumin dai territori a nord che ormai sono stati conquistati dai barbari e dai sequaci della notte eterna questi maledetti barbari li stanno sulle balle i sequaci della notte eterna no capiscono sono tutti amici l'importante è che riusciamo a parlarci la foresta stessa di lorot lorot è ancora disseminata di cadaveri armi armature standardi rossi e argento di reglian secondo che sventolano tra gli alberi che coprono la distesa di alberi dispacendosi un po' di più ogni stagione che passa beh forse non sarà così facile parlarti però potremmo provarci no mano a mano che vi avvicinate sentite che l'aria è pesantita dal puzzo di morte che copre l'odore di resina degli alberi sono tornati a casa e aumenta il senso di inquietudine di chiunque decida di mettere i piedi in questo campo di battaglia a pochi chilometri da Uggvold dove sei nato tu Rael e dal santuario della notte eterna io appena vedo lui che fa un po' storce il naso alla pizza io provo a lanciare un incantesimo di elementalismo in maniera molto prudente nel senso che non voglio assolutamente che si noti che sia io che lancio un incantesimo e voglio far apparire davanti alla foresta come in un istante una specie di esplosione di fuoco a forma di fenice e poi farla svanire un segno e farle anche magari bruciare un po' fare un po' quell'odore di bruciato che per coprire questo puzzo ma l'hai imparato come possono in originale il fantasma di emolico sai che non me lo ricordo l'hai imparato ma non me lo ricordo vado tiro voci nella fenice dato che oltre a chiederci se il ciocobbo è quello che ha perso subito idiota e probabilmente sì probabilmente sì diteci come era il fantasma di emolico in giapponese perché ce la facciamo con un sacco di altre tecniche in originale ma fantasma di emolico 8 ok riesci provi di nascosto effetti riesci con il tuo mentalismo a fare quello che volevi e dimmi come esattamente io voglio far apparire una fiammata che prende per un secondo la forma di una fenice se riesco a fare anche una minima sembianza di quella che ha visto lui perché io durante la notte gli leggo i pensieri per sapere tutto giusto mi sembra esattissimo in modo che il mio scopo è bruciato voglio che sia proprio un flash che sia interpretabile da lui come un segno è giusta la strada magari non lo so e dare quell'odore di bruciato che non è piacevole ma sicuramente meglio di quello di morte e putrefazione che c'è in giro e poi comunque ci siamo abituati perché capita spesso ok fai questa fiammata e questa fiammata copre alcune delle dei problemi che ha questa regione ancora dopo 70 anni che è avvenuta quella dura battaglia che ha visto perire gli eroi del passato i più anziani dicono di sentire ancora nella notte tremare il terreno sotto gli stivali dei 150.000 soldati che si sono affrontati all'Othloroth 70 anni fa e quando la notte è limpida come questa mattina e il vento è tranquillo qualcuno dice di sentire anche l'eco del metallo che impatta contro altro metallo e il nitrire dei cavalli da guerra che caricano i guerrieri che riescono a superare il margine della foresta e voi mentre questa aquila di fuoco riempie il cielo del primo mattino sentite in lontananza effettivamente dei pesanti passi di qualcosa in armatura che si avvicina verso di voi domanda domanda lui come reagisce? esatto innanzitutto mi ripetete come funziona? esiste un corrispettivo di concentrazioni di antipari per gli incantesi ne faccio uno smette l'altro allora funziona che se non ottieni punti fatto sfidando il destino che è una delle cose che puoi fare quando hai saputo o meno il risultato della tua azione con i punti fatto puoi influenzare più creature puoi estendere i poteri della tua azione rimane che comunque se sei fuori dal combattimento una cosa dura una scena si puoi estendere la durata dei tuoi incantesimi ok ora un incantesimo di suo dura un round o una scena se non è in combattimento perfetto domanda al momento non si è in combattimento quindi dura una scena ok perfetto puoi incelere il viaggio certo quindi abbiurazione che ti protegge per un attacco durerebbe adesso al primo attacco del combattimento esatto ok perfetto allora io sento questi passi vedo la fenice la interpreto come un segno perché appunto io ho sattenza zero sto con quello che c'è penso ai miei compagni di viaggio a cui voglio molto bene penso all'Alexander che comunque è un cantastorie e non è mai intervenuto in prima persona durante gli scontri e i combattimenti quelli che purtroppo non riusciamo a evitare perché spesso ci riusciamo mi volto verso di lui e gli dico non preoccuparti andrà bene e gli lancio un incantesimo di abbiurazione cosa significa? significa che la fenice lo protegge e dato che la fenice non muore e se muore risuscita la sua forza vitale sarà protetta qualora venisse colpito probabilmente forse vai un tiro ancora dezza abbiurazione sono specializzato quindi vediamo quindi tiri due lati da sei e tiri il migliore hai fatto due tre ma basta ho fatto sette ok tu vieni coperto da un sottile strato di fiamme di cobalto anche diciamo di cui non senti il calore sulla pelle ma senti che sarebbe in grado di bruciare qualunque cosa cercasse di toccarti corvo e così l'eroe più preoccupato per la salute dei suoi compagni sprezzante del pericolo della sua stessa sopravvidenza utilizzò il suo potere per proteggere colui che narrava la sua storia finito il capitolo e io scuoto la testa e penso sempre troppo buono mentre vi avvicinate alla foresta vedete in lontananza il fogliame bruciacchiato della foresta smuoversi mentre alcuni cadaveri animati da una forza nera e oscura vengono verso di voi la base come funziona un round in clotes oh sentiamo funziona che i personaggi hanno sempre la prima parola agite prima tutti voi e poi agisce il tessitore tra di voi potete dividervi come volete nell'ordine che volete potete decidere che parte prima Rael poi parte Lotr e poi parte Alexander oppure potete dire anche no Alexander decide di aiutare Rael no Lotr decide di aiutare Rael nessuno dei due fa niente Rael a dei punti fata automatici senza devo vedere bene cosa servono i punti fata servono a estendere gli incantesimi in qualunque direzione che si ha numero di creature numero di danni numero di step di distanza considera che la base l'incantesimo è vicino una creatura un danno o un round o bloccato per un round o cose che durano un round massimo tu puoi estendere sia la cittata perché non è da vicino che il numero di creature però ognuno ti costa cioè se tu vuoi estendere tutte e tre vuoi prendere più creature a distanza lontana che duri più di un round vuoi usarne di più sono tre punti fatti esatto oltre a questo se siete indecisi su chi deve agire per primo potete effettuare un tiro di iniziativa che è una regola opzionale non è assolutamente vitale usarla per fare un tiro di iniziativa tirate un dado più il vostro punteggio di volontà chi fa più alto parte prima ok perfetto scusa io sono un attimino più prearco di quanto dovrei i punti fatti si guadagnano vabbè ovviamente se loro mi aiutano cioè se ci si aiutano o preparando preparando la relazione e dal tirare il dado dopo che hai scoperto se sei riuscito o meno ok posso sfidare il destino ok ottimo intanto che si alzano allora direi che inizio io prego prego e mi preparo attento e mi preparo o delle mie forze qualcun altro e mi prendo io un punto fatto i punti fatti non devono essere consumati istantaneamente sulla scheda avete una riga che segna punti fatti e sciagure che potete accumulare se decidete di accumulare punti fatti li potete usare tutti dopo in un'indicazione più di un'azione in un round tu puoi sacrificare la tua azione successiva per fare un qualcosa in reazione tipo cos'è vampiri era che potete sì però funzionava di merda cioè vampiri mi ha fatto bene ok perché lo faccio bene allora io faccio la stessa identica cosa amplio i miei sensi io do per scontato fino a quando non ho una prova contraria io do per scontato che questa cosa si possa risolvere la parola perché pochi mi resistono vediamo se è vero perfetto e continuo ad avanti dritto ma e perché mi sono fermati e l'otra roba che si alza la minaccia tremenda lì davanti anche a me si alza la mattina non te lo dico io non quando sei ubriaco infatti è una minaccia tremenda e mentre l'otra dice questa frase del cazzo sì una manata avanza da i cespugli nella foresta di lot lot giustamente serroth lot lo sappiamo sì esce una creatura che ti dà un'artigliata esce una creatura che ti dà un'artigliata non c'è differenza in questo gioco tra schiere e tre zombie perché sono non morti del cazzo tutti e due del pene no del cazzo e allora i nemici i nemici o gli amici in questo gioco si dividono in tre grosse macro categorie png gregari addestrati e temibili ok i gregari sono i muc certo gli addestrati sono i personaggi con un nome i temibili sono i rossi sì 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 questi sono dei personaggi gregari e i personaggi gregari hanno dai sei agli otto punti da distribuire tra abilità fisiche mentali e spirituali e armatura ok ok uno no lo zombie o lo scheletro non è chiaro perché la quantità di carne su un osso per definire uno o l'altro è variabile variabile ho scritto dei libri si avventa verso l'otra e e lo manca consiglio di un ubriaco funziona da dio non solo quando fate un uno o un sei o i personaggi non giocanti fanno un uno o un sei è uno svantaggio automatico o un punto fatto automatico che vuol dire che uno è un fumble sì questo è un fumble sostanzialmente il sei a un critico fumble 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 del master il primo fumble della puntata urrà vedi questo cadavere che si muove lentamente e misteriosamente nella tua direzione ma mentre cerca di colpirti vedi che cade a terra e sta bruciando ok ci sono delle piccole braci sotto alla sua carne che lo stanno consumando e che lo stanno rallentando più di quanto sarebbe normale per un essere non mordo di questo tipo che già è lento di suo vedete che ce ne sono altri che si stanno muovendo verso di voi attraverso la foresta dovrebbero essere altri cinque oltre a questo c'è solo tu ragazzi no nessuno questi qua erano loro che si muovono in nuovo round tra quelli che sono proprio siamo pronti sono messi male e inizio a cantare cosa vuoi che faccia lott sarà una roccia vai a te se rael ti tocca e uso il punto fato per spargere con la mia voce e le vibrazioni della mia voce e duplicare su lui e lui la protezione della fenice che mi ha fatto in maniera molto prudente perché in realtà sono loro che si stanno potenziando e stanno accogliendo lo spirito della fenice io sto solo dando aiutandoli interiormente allora hai un punto fato automatico che dai loro due non è detto che tu riesca in questa azione ma gli hai dato un punto fato automatico quindi mi tolgo il punto fato io volevo anche usare il punto fato per prenderli tutti e due tu usi il punto fato per darne uno tutti e due ok ok oh mio dio è successo di nuovo terrore terrore mi hanno scritto le cose a caso e io voglio usare una combinazione perché quella che ha fatto lui è a più razione ma è fiamme quindi voglio usare una combinazione sia di elementalismo per moltiplicare e dislocazione per spostarla su loro due potresti voglio anche sfidare il fato potresti sfidando il fato allora se avete due vediamo se mi riesce se avete due specializzazioni che funzionano sullo stesso tiro tipo è sia una magia di abbiurazione che di elementalismo perché uso le fiamme per proteggerli da bla 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 certo avete il vantaggio sul tiro di virtù quindi tirate due dadi e tenete migliore in più se sfidate il fato ci riesci con 4-5-6 invece che solo 5-6 ci riesci con 4-5-6 invece che solo con 5-6 ok il tiro base per riuscirci è un 10 ce la fai quindi si moltiplino le fiamme come delle lingue e si avvolgono intorno a loro e poi voglio provare a sfidare il fato e beh prima vedo se ci riesco poi in caso ti dico cosa voglio fare esatto 6 uuuu bomba e voglio che le fiamme emanino calore possente in modo che quando uno di loro sempre per non far credere che sono io hai due punti fatto uno perché ce l'hai fatta e uno perché sei ah si ah si allora uno dei vantaggi è se uno di loro viene colpito c'è un'esplosione di fiamme il tizio un po' si fa male ok e l'altro è che dura di più ok perfetto la loro dura di più la mia no chiaro voi due io aspetto corpo e mentre le fiamme della fenice e le creature del male si avvicinano a lì della felice lo sapevo 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 la mia sagrada di fenix non mi dico di kiki no di di aspetta di kiki di kiki kiki no kiki 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 per fortuna non c'è qua Andrea di Lecce che è entrato prima se no ti bruciava chi è l'apprentista di grande mur eh si ma nel caldo fagli il culo grande mur l'apprentista era kiki comunque andiamo avanti un cazzo si sta impegnando vedo allora Ken Mark N io dall'altro della mia sapienza zero non do per scontato o non so che i non morti sono esseri decerebrati che vogliono mangiare la carne e i vivi quindi inizialmente quello che provo a fare è convincere allora tutti tutti i png che siano gregari addestrati o temibili hanno una o più capacità speciali che voi non sapete a meno che non facciate un tiro di sapienza che tu non puoi fare no posso fare ma non fallirò quindi lo fallisce lo domandiamo no ma poi io sto intervenendo questo tiro di sapienza come un io non mi faccio domande vivo quello che c'è quindi se poi loro non mi ascolteranno succederà altro io faccio un tiro cioè nel senso sto facendo un tiro d'ascendente anzi u6 con quindi 11 di ascendente hai fatto 6 di dado è un punto fatto automatico che magari anche nel tiro base ok che userò eventualmente dopo la mia voce si fa stentore suona come se fosse amplificata in una maniera innaturale è calda e convincente una parvenza di ali infuocati dietro le mie spalle si si vede in come si dice in trasparenza e io dico amici non c'è bisogno sto usando abbagliamento amici non c'è bisogno di combattere qui siamo tutti dalla stessa parte convinto ovviamente che smetteranno sono 4 creature non morte ma giusto ne hai convinta sicuramente una adesso lo faccio su quella vicino a lui ne hai convinta sicuramente una hai un punto fatto puoi decidere di convincere una seconda creatura o più a lungo la prima più a lungo la prima scegli per un metodo un round eh certo ah giusto giusto è vero quindi io rendo più amichevole qualcuno ok molto bene ma scusa ma se non avessi fatto avversi fatto una prova di convincimento senza usare la magia senza usare la magia dovevano essere creature dotate di intelletto chiaro sì ma soprattutto il combattimento se dura cioè ne hai convinti per un round il combattimento se si fare una scena e quindi dura io lo uso sulle due creature più vicine a Lotr e Alessandro a me è difficile io sono molto dietro va bene la più vicina a te la più vicina anche a lui esatto a me interessa che loro siano il più possibile amichevoli due rimangono interdette per almeno un io alla alla akbar a una vicina io non ci parlerei la guardo faccio con il potere della parola con il potere della parola e mentre mi avvicino un attimino con la mano contraddita faccio due dita negli occhi e una nel naso perché con il potere del boomerling bambino bambino guarda che hai detto a me che non hai due dita non al pubblico già ne perché si chiamano tre dita perché sulla mano sinistra mi rimangono tre dita due le sacrificai per debito d'onore nei confronti del nostro qui sei diventato di teme improvvisamente così da un momento all'altro automatico e comunque mi ci impongo sopra con la zona in posizione delle dita io ti guarirò da questa zona di confusione che ti opprime con 4p opprime opprime e in mezzo tra le prime e gli hancio effettivamente è un incattesimo di guarigione ciao ragazzi di Populon vai lancia senza le c avendo io una specializzazione tirai due tirai doppio fanball uno con uno che bello uno e uno con due di sei mi rendi proprio fiero ricordati che hai un punto che ti ho dato io che un punto tu ce l'avete si si potrei prendere un'altra allora volendo ah non ho aspettato perché questi un punto che ci possono usare due li hai usati per risolvere questi due uno uno l'hai usato io ho guadagnato uno l'altro non l'ho usato ah si l'uomo l'ho usato al momento l'autre ha fallito in più ha fatto uno il che vuol dire che è una sciagura automatica ma io uso la mia azione del prossimo round perché non ho idea di cosa io cosa ho visto lui che cercava tu hai visto che cercava di mettere due tita negli occhi e una in bocca per togliere il teschio vedo che non ci riesce allora convinto che fosse una mossa antica da guerriero per staccare la testa a qualcuno provo senza farmi vedere sempre nascosto con dislocazione spostarvi la mano e infilare effettivamente negli occhi del tizio le reazioni funzionano in questo modo voi potete dire in qualunque momento dopo che avete già agito se non avete ancora agito è inutile perché tocca ancora a voi dopo che avete già agito potete rinunciare al round dopo per dire in questo preciso momento faccio questa cosa e io faccio questo perché non avete capito bene cosa voglia fare lui sei tanto io mi faccio dislocazione mi dispiace dislocazione per spostargli la mano e colpirlo negli occhi come il colpo che lui voleva fare allora sei riuscito a fare quello che volevi fare quindi hai preso il tizio aspetta io volevo prenderlo e lanciargli un incantismo di guarigione perché so il poporello non morto scheletrico che sta a me io voglio fare un danno con la sua mano ovviamente arrivato allo spostamento delle mani a quel punto subentra il sono grande e grosso ho scanato le misure probabilmente e gli do uno schiaffo non gli do uno schiaffo gli cade addosso con la croce che c'è sulle spalle ok quelle 6.000 tonnellate però scusa aspetta lui la situazione l'ha già fatta e ha fallito la situazione l'ha fallita ma questa può essere una reazione la tua tu mi hai fatto la giuda di fare la reazione alla mia spostandomi il braccio io la presa la misura in un'opposizione ha sbagliato è una reazione della sua e funziona quello che sta succedendo è questo tu avresti sacrificato la situazione dopo per fare questa sta di fare un danno proprio in termini banali lui sacrifica la sua azione per fare un ulteriore danno che già sta facendo a causa tua quindi sicuramente questo si fa due danni a me l'importante è che sia poi io non ho un punto e tu hai un punto fatto che può essere un vantaggio automatico è un punto con cui puoi darti un vantaggio tattico o migliorare un incantismo quanto è grande il vantaggio tattico posso non fargli perdere la sua prossima azione sì ok allora diventa tutto un movimento praticamente fluido perché io l'avevo calcolata che stava facendo quello in realtà no e lui riesce a non perdere la sua azione ok i quattro non morti che si stavano avvicinando a voi attaccano dopo essersi mossi e il movimento in questo gioco funziona per step a contatto vicino medio lontano loro erano vicini si muovono di una step arrivano a contatto ma il suo non attacca perché era uno non attacca gli altri non attaccano lo stesso uno non attacca te due attaccano due attaccano certo però lui tu gli hai fatto due danni a uno sì sì ok i due che attaccano attaccano il primo fenice e si gettano con delle armi arrugginite verso di te e piantano la spada in una in un tronco di betulla non troppo lontano dalla tua faccia esatto lontano dalla tua faccia ma qualcosa si interpone fra la loro spada e te io non mi sono neanche ma l'ha colpito? no io non mi sono neanche spostato perché ero convinto che non avrebbero attaccato io ho ammaliato alcuno mentre l'autre si si vede passare la lama molto vicino alla faccia così vicino da colpirlo ora quando qualcosa rischia di colpirti tu puoi dirmi lo prendo e segni il danno oppure cerchi di parare con armatura e scudo nel momento in cui il colpo sta arrivando io cerco di slacciare la mia croce scudo da dietro la schiena per fare questo mi piego leggermente ma da tutto questo si è ripetato il fatto che le mie dita sono ancora incastrate negli occhi e nel naso dello scheletro quindi rimango un po' bloccato e il colpo va a prendere la mia armatura completa sulla spalla che però c'è la barriera allora intanto dire tu hai fatto la barriera su di lui io ho fatto la barriera su tutte e due quella che lui mi aveva fatto quindi assorbe un colpo ma per due round se venivano colpiti c'era cosa di fiamme quindi tu ti chieni per evitare il colpo in maniera automatica perché sei abituato a farlo la spada colpisce qualche cosa a meno di un centimetro dalla tua croce che tieni sulle spalle e una fiammata che fa che riacheggia nella foresta di Loth Loth colpisce l'ugurli fiamma urlula esatto colpisce è una felice con troppi colmosomi colpisce lo scheletro che ti stava attaccando che viene distrutto e tocca a voi uno scheletro è andato tu hai già fatto tu hai già fatto ho già fatto anche io no io l'ho fatto riprendere però ah giusto col vantaggio tocca a voi due che tristezza cosa molto importante in Clotes se iniziate a vedere personaggi che come noi iniziano a fare reazioni su reazioni su reazioni prendetevi un cosettino rissegnatevelo quello è utile quello è utile io mi guardo attorno deluso e dico è una di quelle volte mannaggia mentre io sto vedendo che continuo a fare esatto col fiatone tutto a posto sì sì il fatto è che questo è sì sei sicuro ok dato che quando io non cerco di essere collaborativo quando non cerco di vedere vero quali le persone ma cerco di essere aggressivo mio malgrado ciò che si manifesta attorno a me non sono le braci non è il fuoco ma è la cenere uno sciame di una nuvola di cenere nerastra mi cioè trasuda da me esce dai vestiti sì sì esce dalle vesti come se fosse uno sciame circonda lo scheletro vicino a me e si avventa contro quello che sta combattendo contro il nostro ubriaco ma quello che sta combattendo quello che ha incestrato tra le mie mani quello che ha incestrato tra le tue mani è stato l'uso ah scusa quindi l'altro io sto usando ascendente perché è la mia pura forza di volontà quindi è volontà è la è mia pura forza di no scusate che cambia è la mia allora cambia nel senso che ascendente è il carisma forza di volontà ci sono ci sono sei virtù che non sono pescate a caso voi come la definireste la potenza della felice guardali ce l'abbiamo forza di volontà o vigore o vigore allora la forza della felice potrebbe essere vigore tranquillamente potrebbe essere volontà potrebbe persino essere ascendente se però fai qualcosa di ascendente ascendente quando cerchi di convincere qualcosa di qualcuno della tua potenza se cerchi di intimidire il classico incantesimo di niente che era lo splendore dell'aquila che più o meno dà la felice tutto quello tutto quello che è ascendente sono le bracci evidentemente l'accenere probabilmente è vigore in questo caso ti direi che è o vigore o volontà io userò proprio perché le virtù per come sono fatte per tre non morti di merda arrivi già a metà del tuo destino che dai del cazzo sei è una narrazione di una serrata non è una mi compio allora chi lo sa dove stiamo andando lui è libero di scegliere le virtù per come sono pensate non descrivono un'azione nello specifico ma come voglio ottenere un risultato voglio fare del male ai non morti va bene come certo puntando i loro punti deboli accuratezza nascondendovi nelle ombre aspettando che passi da davanti prudenza lanciandogli una fiamma addosso finché non bruciano nella morte vigore tu in questo caso io sto facendo qualcosa di simile allora per quanto è vero è una cosa che mi riesce anche meno bene di solito non fa parte di me questa cosa quindi io penso che userò vigore non ho una grande e sai cosa non uso neanche un fiato di vestito perché quello che contravestingue me come personaggio è l'utilizzo di ascendente quando le cose possono farle andare meglio quindi mi tiro migliore vediamo cosa vediamo cosa ne viene fuori ma mi fai visto allora hai sicuramente un punto un punto fatto da prima cioè ne ho due ne ho in tutte e due ok a prescindere che tu riesca o meno hai dei vantaggi una delle voci nei figli del destino dice quanti figli del destino servono per far mettere ammanto di fare gli accenti adesso guardo Matteo 7 penso 7 esatto 7 ha fatto un miscuglio 8 ha fatto un miscuglio stessimo calabrese e non ho capito cos'altro in effetti scusate un secondo il puntifato ti dà anche più consumare il puntifato ti dà anche più al tiro allora no il puntifato non agiscono direttamente sul fallimento successo di un'azione bene allora quello che farò io tu puoi succedere o fallire e avere dei vantaggi o delle sciacure quello che succede è che io non gli faccio del danno la cenere non riesce realmente a danneggiarli però quello che succede è che loro sono completamente circondati da queste ceneri che di tu rimano attorno e sfruttando il punto fatto non vedo niente di quello che gli succede scusa non vedo niente attorno a loro è come se fossero circondati da uno sciacassetti allora accecato è una condizione ben precisa che non manca questo è un manuale sono 100 pagine ma è ricco allora accecato è una condizione ben precisa che non agisce direttamente sui punti ferita o su cose che il personaggio può fare ma essere accecato tirare due dalle tenere peggiore esatto è come avere lo svantaggio in tendizioni di D&D addendum a questa cosa quando voi fallite un tiro potete anche dirmi io riprovo subito nella mia azione a rifare questa cosa perché non ho consumato un filo ma ci devo riuscire ok potete provarci vi abbassa di uno il punteggio di virtù totale ma vi aumenta di uno il dado a cazzo poterò il coro il che vuol dire che ai termini del tiro di per sé non cambia nulla però da lì in poi avrete un meno uno su quella virtù finché non vi riposate in questo caso non è questo il punto perché tu non hai fallito ma hai accecato il il non morto il non morto il non morto il non morto per cui due dei tre che rimangono vi attaccheranno tenendo il peggiore dei due dadi che tirano molto bene ma due degli ospiti che avete qui adesso vi salutano perché a breve e quattro degli host di questa puntata vi dicono no vediamo se non riesci ad andare via possiamo al massimo vediamo se riesci ad andartele via 1 e 3 dipende quanto hai di ascendente 1 e 3 è un tiro di via 0 e allora no 0 buonanotte amici ciao mamma e guarda come mi e non la mamma del personaggio di Manto che è una piccola esatto no il personaggio di Manto voi non possono neanche insultare un personaggio immaginario di Manto quella troia di Cersei esatto quella zocca di Mamma Gatter quel puttaniere di Papà Castoro guarda come sono indisciplinari incredibile mi raccomando divertitevi ma con intelligenza che è quello se caschimare intelligenza o intelligenza perché non è la prova di sabbia o un po' 5 ho buttato 5 cazzo così salito ciao buonanotte ciao auguri tu e l'Avi di Querti grazie presidente bravi ma che bel presidente bravi ma che bel presidente mentre noi siamo qui a lavorare prima a casa proprio presidente e che funzionano le cose poi che sei qui a lavorare sono in via l'umana è la seconda tu sei qui a bere io sono qui a lavorare perché sono un professionista tu sei qui a bere e lavorare perché sei un professionista più un manto è qui a bere quindi vuol dire che per esclusione io sono qui a lavorare ma non penso in realtà tocca a me tocca a voi io no ho saltato la parte è lui eh no lui è saltato lui ha appena fatto tocca a te era per esclusione stavo visto che quello tra le mie mani è morto è morto ed è metallo sì beh in effetti cerco di prendere un altro che sia più vivo ma come eri così giovane in vigore e invece ti prende un altro che è più vivo e piglio un altro che è più vivo come la carta con la lontra per sempre ah tu sei mio e cerco di prendere un altro per la testa per la testa guarirlo colludirlo allora tu che specializzazioni hai ho magia di guarigione e proteggere su magia di guarigione è perché la mia idea è un riprendo sono dei non morti se gli infondo qualcosa di che gli riporta in vita non gli fa bene dovrebbe fargli del danno esatto come in qualunque gioco di ruolo ma non in clodes l'hai curato di 6 punti ferita tada no funziona aspetta questo è per il il tiro ok se con questo tiro ricordi che c'è il punto fado sì ma non mi servirebbe in quel giocamento se no però butti sì ma non mi servirebbe come le signore anziate che fai li butti scusa devi capare gli spiglaci dopo che gli hai una nuova perché lo si mette due persone nel prendere uno gli passo la scossa all'altro non farei giocare ci sono andato che il butti butti vado in guerra non buttavamo niente in guerra non buttavamo i butti vado è carico è tutto smantrappato a bere così quello fu su volontà abbiamo finito gli accenti grazie no no dipende dipende come lo vuoi fare l'accento infusi la mia energia vitale per rendere cosciente che lui è morto e io fui vivo allora potrebbe fui io fui vivo siccome vuoi hai dato il morto al sospiro potrebbe essere vigore fu morto undici gli veci coniugazione undici gli veci gli veci capisci hai capito la destra perché il manto quando beve viene da 100 non lo so brutta persona è abbastanza quando beve quando passa le 5 beer che è diverso quanti punti fatto hai uno potresti quello ce l'avevi da prima potresti cercare di sfidare il destino dato che stai cercando di non difenderti ma fare danno non avresti il vantaggio quindi 5 e 6 è successo 1 2 è fattimento cioè è un fattimento svantaggio però se ce la fai vuol dire che fai il doppio danno a 2 facim sfidare il destino vai un dato da 6 secco 3 niente 0 non cazzo riesce a colpire comunque entrambi i non morti vicino a te che perdono pezzi di carne e ossa che si consumano bruciano di luce sacra allora fate qualcosa voi tu andrò a far tutto io hai ragione tacci loro sudatissimo vabbè che so schiappe però purtroppo per voi però dato che hai colpito due diversi non morti ma nessuno dei due è stato distrutto o è stato bloccato in qualche modo i tre cadaveri animati vi attaccano ma due con svantaggio su di chi due con svantaggio il primo con svantaggio attacca un rai il primo attacca rai con svantaggio fa mancato lo prendeva solo con 5 3 più sì mi sa di sì sì perché i non morti hanno due di fisico poi è la mia caccia al matura cioè il sistema non c'è la caccia al matura no infatti lo so c'è il successo devo fare un più 7 e chi c'è tra lo studio lo scudo serve quando ti colpiscono per eventualmente parare ora ho capito l'altro si chiama l'altro cerca di colpire posso aiutarlo senza spiegare la mia azione cioè tipo lui mi sta colpendo mi metto in mezzo al colpo perché io ho ancora la barriera sì perché sono stanco faccio mi porgo il collo tiene migliore sì ok e non mi prende lo stesso e fa 10 con un di 6 dunque mi prende l'armatura e cazzo però il terzo rimane un attimo storbito da quello che sta succedendo intorno e tocca di nuovo i tre allora però c'è una cosa che non ho capito lui ha messo due reazioni o agito io e poi non agito loro io non agito questo perché io col mio vantaggio non gli ho fatto perdere la sua azione bravo ragazzi ok ora ho capito torna tutto sembra che non torni ma questa è la mentalità da board game io mi guardo attorno mi rendo conto che le ceneri non stanno facendo il lavoro che avrebbero che normalmente fanno con le creature che hanno della carne attaccata addosso consunzione in stile carta vetrata penso dentro di me serve qualcosa di più preciso e specifico e le concentro con una maggiore densità attorno al collo per spiccare la testa dal collo là dove le vertebre sono più come se sono più fragili e le attacco con l'accordezza ok uno ne attacco uno con l'accordezza se vuoi puoi scegliere di sfidare il destino ma io avrei ancora un punto fatto però non lo potresti usarlo automaticamente per attaccarmi o fare due danni automaticamente ma io salvo ti dico visto che sono in due e le ceneri li circondavano entrambi in rotta per coerenza ti dico li attacco entrambi cercando di concentrare le ceneri attorno a loro allora vediamo 4 e 4 8 attacchi entrambi e vedi entrambi perdere di netto la testa che viene spostata da qualche forza che tu non sei in grado di definire e che voi due siete in grado di percepire vagamente qualche metro più in là le teste rotolano i corpi si stanno ancora muovendo in un ultimo afflato di sforzo nel finire verso di noi sono ancora vivi quindi molto bass cioè stanno perdendo la propria energia vitale se non vi proteggete in questo momento no allora io voglio usare la mia azione per provare a sempre fingendo usando una canzone per far credere che sia lui che in realtà l'ha fatto più forte e quindi prendano fuoco ma in realtà voglio usare elementalismo per dargli fuoco ok a entrambi quindi poi voglio in caso usare però prima faccio solitario nella mischia va se lo incontri gran paura fa la sua fiamma poi ti ammazzerà scappa c'era el scappa c'era el scappa c'era el boom e la fiammata a fare da finale della canzone l'uomo felice 8 8 di di elementalismo 1 l'hai colpito sicuramente e voglio sfidare il destino usando a questo punto sempre elementalismo e dislocazione perché voglio ingigantire la fiamma e spostarla sull'altro ok e se io dimassi un punto fatto aiutandolo in questo dicendo sono stato io potresti io chiaramente sto cercando di fare tutto con prudenza e fare modo che sembri lui allora se lui fa con prudenza come l'ha descritto prende puntifato con 4 5 6 giusto tu puoi aiutarlo e dargli un punto fatto automatico io lo aiuto perché vedo questa fiammata la ripondo qua me quello che capisco io è io però lo tiro lo stesso in caso per farne un altro perché così almeno faccio un fallimento facciamo vedere cosa sono le sciapure giusto e io le dico giustamente purtroppo no allora quando io sento le sue canzoni succedono cose che sono in qualche modo collegate al mio anche perché in questo momento tu vedi che io faccio questa tu ti gasi un po' vedi da te la fiammata che parte che investe uno ma si sta spegnendo esatto non sta andando sull'altro e quindi dico c'è qualcosa e senti un rumore come di qualcosa di elettrico che cerca di esatto e io vedo bene aumentare e io vedo bene di dare un innesco e in realtà aiuto lì pensando aiutare me stesso esatto e vedi due dei tre cadaveri animati che venivano verso di voi bruciare completamente in una fiammata brucia come dicevano i consumarsi ai vostri piedi in una pila di cenere mentre ne rimane solo uno che si sta avventando verso l'Octra che in questo momento è fuori quindi cazzi suoi cazzi suoi è un è un Clotis è un gioco sulle scelte se scegli di uscire per fumare perché se la segreta è tropica o per appisciare secondo me cazzi cazzi tuoi 4 e 2 e 6 non riesce a colpirlo però vedi che lo sta mettendo in difficoltà nel senso che lo sta allontanando da voi quasi come fosse a fumare quasi come se fosse a fumare io a soltanto ci scopre primo perché corvo segna e la battaglia finì in un trionfo dai avanti tu mi avvicino e do una cazzo torna in testa allo schermo allo morto vai è un tiro in questo caso di vigore perché ti stai di vigore non sono specializzato quindi è un dato solo perché sono basta cioè cazzo e dai 7 l'ho preso perfetto lo colpisci spam con l'iuto spam in testa allora c'è un personaggio in Clotes che a prescindere da quanto sia bravo lui mano a mano che va avanti giusto io uso tutto fare sono specializzato vediamo se faccio 6 no quindi mi tengo il 5 mano a mano che va avanti il combattimento ogni round elimina un avversario perché è noioso è il folle che avevo scritto per manto che se n'è andato quindi lo colpisci comunque oh oh riaccorto e mentre sistemi in iuto senti una voce che dice aspettate un attimo perché io vado e mi bagno il culo ok però però che cazzo Alexander vedi che in realtà tu parli di tempo dovresti essere un grande guerriere guarda un grande guerriere guarda vedi che ti sei sbarazzato nel non morto sicuramente come abbiamo fatto noi chi te lo fa fare di stare dietro hai ragione cercherò di fare un po' di più perché vedi che c'ho la vena che pulsa sudato non ti preoccupare è giusto che gli eroi facciano le cose da eroe però non sono molto questo è la sua fastidio e lungaggine si è vero in realtà mi spiace molto non essere riuscito a finire sono non morti non potevi parlarci già è tanto che si sono fermati due secondi quando gli hai detto qualcosa come non morti in che senso cosa si sarebbe sono creature che sono morte e poteri malvagi 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 le hanno fatte rialzare per nutrirsi della vita delle persone e tu ne hai un sacco di vita per questo ci hanno attaccato per un secondino li ho convinti si per un secondo perché non hanno una mente sono delle cose che si muovono e si nutrono attirati dalla scintilla di vita di una persona con loro non si può parlare non parlano questi ma lo vedi guardalo non c'ha c'ha due pezzi di carne sulle ossa non ha le corde vocali non ha il cervello come fa a pensare beh ne ho visti i conciotti peggio che ho convinto beh no forse no dove sei stato no non vale senso perché peggio di così si muore letteralmente parti dai presupposti ma neanche così si muore letteralmente io cerco di non avere pregiudizi magari mi ascoltavano cazzo mi spiace io spero che quello che ci aspetta la prossima volta ti oltrerò non morti e sappi che non ci si può parlare d'accordo hai fatto del bene a darvi fuoco guarda quanti ne sono bruciati ma soffrivano ma no il massimo che può soffrire è colui che le ha creati che in questo momento ha sentito il suo potere magico venire distrutto e venire meno e quindi imparerà a temere il giusto potere delle fiamme comunque penso che dovrebbe preoccupare perché il mio potere sta cominciando a sfuggire che mi rimane ogni tanto quella fiammata non ce l'ha anche pensato ma è stata giusta è andata bene no sì d'accordo ma perché l'eroe agisce distinto l'eroe non pensa in questo caso letteralmente beh questo è vero sono stato molto questa parola oggi beh che dire beh non si è fatto male a nessuno è stato un grande incontro grande pulisco un po' io non saprei se è stato un grande incontro la tua mossa è perfettamente riuscita quella che cercavi di cavalli gli occhi no? sentivo che è un'altra voce che non è quella del io pensavo fosse Alexander il rinotro scusa è un'altra voce un po' più in lontananza chi va là? il mio no se siete un conato di vomito riempire che lingua è l'aria? no penso che sia ubriaco semplicemente un altro cos'è la foresta degli alcolizzati? che ne so magari c'è una locanza solo c'è una locanza sola sono non morti dovranno pure fare qualcosa in queste persone per bastare chi va là e rimani là se devi vomitare il mio nome è ru ru ci parlo ci parlo io con questo eccala là oh ah scusate allora dove sei? dove sei? in questo penso che ci puoi parlare ru e vedete uscire dai dai cespugli un vecchio mezzo pelato parecchio varbuto e sporco non è uno morto e si avvicina verso di voi non lo so guarda è messo male se non c'è una cripta io chi sei? ho visto cosa state stavate facendo ah scusate è da parecchio che io lo guardo lo guardo io inizio a mormorare cercando io con prudenza di dislocargli i pensieri in realtà è più una cosa di divinazione che voglio fare e mormoro una canzoncina che è ti leggo la mente e mi dirai chi sei non resister più non resister più e prova a leggere di la mente visto che ho finito il combattimento uso tutto fare per essere specializzato in divinazione ok falso come sei dimmi dimmi chi sei tu forse non sei tu mentre io invece scuoto la testa dico un ubriaco basta e con sei uuuu vai 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 scrivi scrivi no voglio sapere è un punto fatto automatico ok quindi le domande sono è una minaccia no e poi c'è un'altra perché uso il punto fatto e l'altra è qual è il modo migliore per farlo rinsalire mentre posso dislocargli l'alcol tale bene si è il modo migliore lo faccio però intanto io ho tirato un 9 di accuratezza per fare la stessa cosa rinfocolando però con l'energia vitale della fenice quello che io ho visto che guarigione mi ha buona scoccolatezza quello che voglio fare è ha dell'alcol in corpo sta male sta vomitando esplode io lo es fire esplode i brandelli di questo vecchio in giro io estinguo l'alcol e il malessere nelle sue vene come quando ti fai la bull dell'acqua calda sta in medio la stessi antica cosa ok d'accordo lo faccio io io come si dice porgo una parte cosa è successo manto diventa un distociato manto che non beve esatto manto ho sollevato è bello sapere che per alcuni che ci ascoltano siamo più ancora realizzati ora è il tuo posto ora ci siamo ma è vero tra l'altro tra l'altro io volevo salutare Andrea Simeoni che è colui che ci regalò le grappe la duorfeil ah la duorfeil e che purtroppo non è riuscito a venire stasera per problemi personali io sono molto dispiaciuto gli auguro di riuscire a venire il prima possibile mettiamoci in accordo troviamoci e se no la luna dovremo trovare noi esatto come puoi notare non è un problema bere la birra o qualunque altra cosa perché diciamo che su questo siamo ferrati più che altro è da fare qualcuno di voi in metro io io e oggi non so a che ora chiudere c'è la sostitutiva si sono già le 23 sono già le 23 ma di già di già di già di già ma è la 200 24esima puntata di già di già ebbene si allora io come ho detto stimola con il suo bene inoltre vedo bene di dargli una sensazione di benessere dato dal tepore che il mio afflato di vita gli può concedere oggi sai la parola del giorno afflato quella che trovi tipo quante volte l'avevi usata afflato lui l'ha usata almeno due volte va bene non è nero si nella vita era quando mi conoscete prima voce nella testa confermate afflato e abbiamo usato anche desueto che è desueto l'abbiamo usato e gargantuesco e anche atrium giardino sovente circondato da colonne atrium abbiamo finito di fare questo sfoggio di evidente cultura scusate ragazzi scusate e cultura adesso mi pare eccessivo però comunque il vecchio vedi che è un po' più ma si lo posso fare subito e lui sta pensando in questo momento perché io gli sto ancora leggendo i pensieri sta pensando che palle devo ribriagarmi di nuovo avevo speso tutti quei soldi alla locanda ma perché hai speso altri 15 euro euro la prossima volta questo è una continuiti sua questa sera la cura insieme vedi dovresti fare come noi andarcene senza paura cioè volevo dire cosa ci fai qui se posso volevo chiedere cosa ci fate voi qui meteorite seguiamo le ali della fenice meteorismo l'ho già fatto grazie no meteorite quello che è caduto poco avanti cometa non comera cometa si beta ma perché ci fai in questa foresta c'erano delle creature non morte perché non ti hanno attaccato basta essere abbastanza morti tranquilli cioè adesso non c'è bisogno di andare a spaccare qualunque cosa vi passi davanti ascendente a no nove beh l'importante è conoscersi in luoghi pericolosi l'importante è fare amicizia ma comincia a dirci chi sei cosa ci fai qui e noi ti diremo lo stesso è un buon inizio il mio nome è brock come era rufus rufus è il cognome brock rufus brock è quale che non l'ho deciso io l'hanno deciso i miei genitori io ho avuto modo di ah beh brock però era sicuramente un'ottima di mia azione mi è molto piacere io sono alexander lui è l'eroe rael io sono lotre ah è come brock brocca e lotre è perfetto sicuramente noi sono due contentori se sei qua in giro sicuramente avrai sentito parlare di me sono l'autore del famoso libro per avventurieri creature fantastiche come cacciarle e anche pentaso credo come ti chiami alexander forse mi conosci per quell'altro ma alexander non ho mai capito come cacciarle tipo di casa o come cacciarle no come cacciarle aspetta io credo di averlo sentito forse per l'altro era una cosa un po' più di ricchia però la signora degli augelli ah quello giusto di alex under no under esattamente voi forse voi forse non lo sapete ma prima di essere famoso per questo trattato degli avventurieri delle creature avevo scritto dei trattati un po' licenziosi per avventurieri non ricordo Grim Aldelli no il titolo della trilogia era la signora degli augelli io mi ricordo era divisa entro i libri io mi ricordo eh sì 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 la ricordo hai detto il primo era la compagnia la compagnia poi l'augello no la prima non era la signora degli augelli quello era il titolo ah la signora degli anali no quello è il primo capitolo l'ho scritta io scusate non ricordo il primo libro era la compagna con l'augello perché parte è la scoperta sessuale di questa signora che parlava della donna invisibile che passa dalla compagna con l'augello alle due torri ah ma si la c'è al ritorno dei tre ah giusto ma io pensavo però si è scritto manuali vabbè niente no è fantastica come carciarle era l'opuscolo uno sotto il ponte con il trono no lui aveva scritto quella era scritta a quattro mani tre mani diciamo lui aveva scritto Harry Plotter tecniche di stampa mi ricordo che era quella cosa che serviva no la mi confondo quello è Alexander ed è un nome unico ah non ho scritto Alexander comunque però non ho ancora capito come ha diviso vabbè ma insomma partiamo di questo mitteoretico che ci fai qua stavi dicendo io stavo raccogliendo delle cose da rivedere poi in città nel senso un bosco allora lo sapete che Regideon ha un sacco di stima vede che non hai letto il mio libro sulle creature sono un sacco di cose da vendere Regideon ha un sacco di stima per tutto quello che sembra essere un minimo legato agli eroi eee delle pietre degli alberi marciti eeeh sembrano essere delle cose interessanti quindi io gliele vendo 8000 euro che colpa le ho io se ha reitato queste cose come ha fatto a rivedersi no perché adesso mi ha preso il guadito potrebbe essere un suo potere potrebbe essere la bottiglia che mi ha rubato dalle mani come hai guadito da cosa in realtà io è stato un piacere ma penso che la cometa sia già atterrata da un po' fanball eroe in realtà io eh sì non sono così convito che abbia funzionato e senti una e senti una esatto leggera aura di ubriachezza che mi pervade pervaderti perché effettivamente questo che fiatella in questo posto in cui non c'è odore di natura non c'è odore di alberi che crescono liberi c'è odore di morte lezzo e morte braci e questa persona è stato un grande piacere sempre un piacere contare un fan a rivederla dobbiamo andare in una cometa un'ultima cosa se andate nella foresta e riportate indietro qualcosa portatelo ma lui è un eroe che domanda è portare indietro qualcosa cosa sta cercando reliqui di eroi qualcosa andate nella foresta qualcosa porterete indietro gli stanzardi elmi armi mi sta conciondolo mi sta conciondolo mi lo lancio gli dico questo appartiene all'eroe Ra El Al Amarant si scrive con la X si scrive con la X appartiene a un eroe dovrebbe esserlo la Fenice la Fenice quella con la X vai a vendere questo ascendente e ascendente 4,5,9 la mia voce appunto di nuovo sembra risuonare il suono di mille tamburi e fatti una vita ubriacone lo farò solo un'ultima cosa se andate verso nord si io ecco starei un filo più lontano dal santuario non che voglia dire che voi morirete perché il santuario della notte si non abbiamo alcuna intenzione di andare lì ma come no se è lì lo lasciamo lo lasceremo lì ma comunque andremo a qualche altra parte andremo a nord vedremo fateci un pensiero in più ecco perché perché su di che perché ho mandato sette miei amici a prendere della roba lì e nessuno è mai tornato ce li hai mandati tutti insieme o uno alla volta beh alcuni uno alla volta alcuni tutti insieme ah per amici proprio ti ci puoi fiori fidare di te come persona io mi fidavo di loro non sono tornati più che loro si fidavano di te ma va bene non è un problema mio esatto anche perché ci abbiamo messo fretta e tutto quanto è stato un grande piacere arrivederci su era un tipo sucevole era un povero ubriacone a proposito povero lo so certo che anche tu predichi bene il razzo di male un po' in che senso hai appena detto a lui di farsi una vita e guarda con chi ti accompagni ma io devo purgare proprio te stessa cosa che ho fatto a lui però la faccio su di te ma la te brucia e dai manto dai dai cazzo i bambini di 5 anni il bue che dice cornuto all'asino proprio che c'entro io e poi mi brucia ma dai hai capito ho fatto lo stesso incantesimo di guarigione bruciando l'alcol nelle tue vene mentre con lui ho detto è una cosa che lo fa sentire a suo agio adesso non posso dire niente vedete stai scavando la tomba la sola il peccato è nelle orecchie di chi ascolta e anche nella bocca di spalla anche nel culo di te lo prende ma ecco vedi questo non è peccato se ti piace è metallo non è peccato ma è metallo vero io ho soltanto riso non ho dato indicazione se tu hai costruito tutto quanto a tono sì certo sì esatto hai fatto tutto la sola certo certo come ho sceso 6 augure per fare questa cosa come 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 non eri stato tu avevo ucciso quel poveraccio per 20 euro di argento ma è stata il camper no no è stata la falce di il camper per volta sua che è il soggetto lo sappiamo bene la falce di il camper che c'è sto a fa qua cioè pane non c'è pane lascia qui l'ho mangiato vabbè siamo divertiti al discorcio sull'insegna sono delle grigio non c'è più niente niente non c'è più niente poi parlo niente l'altro ma non c'è più e ballo la disco era questa allora dunque non ho capito se non era sempre come si mette la vita vero? adesso stai un po' meglio io sto sempre meglio io sto sempre meglio no stai un po' meno ubriaco perché prima ti sei andato ubriaco ma porca si stiamo andando verso il video non posso non trascrivere niente di tutto questo io mi volto verso anzi cancella le ultime tre cantastole disse e poi ti era detto bravi si vede che tu sei un cantastole con molta più esperienza di me mi volto verso mi volto verso alexander e si lavò silenziosamente mi dai una mano questo? cazzo abbiamo bisogno di un po' di non mi sto impedendo di far nulla mi sto seguendo esatto quindi inizia ad andare l'eroe apre la strada e il guardiano e chi narra della sua storia lo segue ah merda torna ti ammata torno a me brucio i pericoli e vado avanti non è possibile abbiamo qualcosa di grandioso davanti a noi e la sigaretta che è appena rollata finisce bruciata completamente avanzi nella foresta di Lothre Lothre e è davvero si quello che trovi che state ascoltando è farlo basta quello che trovi avanzando nel profondo di questa foresta e degli alberi che impediscono a voi di tenere più avanti di qualche centinaia di metri senti in lontananza un rumore di una lama che sta tagliando dei pezzi di legno in maniera molto accurata e sapiente non è un ragazzino che sta affilando una freccia per cacciare un coniglio è qualcuno che sa cosa sta facendo che sta affilando un pezzo di legno con degli strumenti ademorti ok beh sarà un paregnante sarà qualcuno che sa fare il suo lavoro qua qua dentro con i non morti in giro voi non avete viaggiato molto della vostra vita lo saprà fare molto bene ma in città non c'è un po' che affida dei pali io direi di evitarlo completamente do un'occhiata cercherò di essere perché perché potrebbe sapere qualcosa di quello che era successo qua davanti sì abbiamo già incontrato uno che sapeva qualcosa di quello che era successo qua davanti comunque c'è la tua informazione con la giusta prudenza e cercando di non farmi vedere cerco di dare un'occhiata e mi avvicino e faccio 9 no 8 4 più 4 dovrebbe essere facile anche per me 4 più 4 fa 6 o 9 non 8 mai e 8 il master 8 io non mi felicitavo va bene carimero questo è un po' che ho avanti ho visto carimero ragazzi era capricciante da quello vecchio nella testa rispetto sì no comunque vai avanti nella foresta e ti avvicini a questo rumore di legno che vede in tagliato quello che vedi in lontananza è una piccola piccolissima radura saranno 6 7 metri quadri di radura quindi poco più di questa stanza al centro c'è un essere umano che sta intagliando qualcosa e per terra sui piedi ci sono quattro corpi ti sembra che siano completamente privi di qualunque colorito umano potessero aver avuto se sono morti sono morti da più di qualche minuto la prima cosa che succede è che la felice cerca di mettermi in salvo pacca 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 non dici la felice è il cosmo un po' buone ma fatto peggio molto bene sono contento che il mio eroe sia venuto un po' riepico ce l'ho tra l'altro la canzone è la vecchia molto bene mi raggio quindi a più la valione paccio 6 evviva quindi prendo un punto fatto ognuno può essere gelogico e con 10 di prudezza adesso mi ha violato ben bene e dopodiché col maschio del granchio torno indietro e guardo l'oro vedete che sto bruciando dell'aura protettiva che ti avevo donato poco fa problemi? sembra un artigiano competente però i cadaventi che attorno non suggeriscono una particolare sicurezza beh provo a vedere se per lui va bene andare e appena si gira che è distratto lancio il cadresbo cercando di non farmi notare voglio fare un'intenzione di ammagliamento usando tutto fare su chi? tutte e due cercando di distillare nell'argomento una certa urgenza nell'andare al nord andare verso la cometa ed ignorare ogni singola distrazione che si trova in giro nel cammino ma a pari smetto dura una scena fuori dal combattimento esatto allora ho capito come funziona tutti gli incantesi vi durano un round in combattimento una scena fuori dal combattimento quindi se io avessi cercando la valida di lui l'avessi preso amichevole e non fossi incontrati in combattimento sarebbe durato fino a che il gioco è molto bene 7 al pelo proprio e voglio sfidare il destino perché voglio farlo su tutte e due vai 3 niente quindi solo su di lui tu Rael sei convinto che questa persona sia irrilevante fino a un certo punto nel senso che è un tizio nella foresta che si sta intagliando dei pezzi di legno probabilmente in un punto dove le creature che potrebbero attaccarlo si terrebbero lontane perché ci sono i cadaveri più che altro il senso di urgenza che ti rio è sta per succedere qualcosa lì dove è caduta la cometa se continui a perdere tempo scuoto un attimo la testa mi volto verso Alexander gli metto una mano sulla spalla e gli dico Alexander so che sei curioso so che dietro questa persona potrebbe esserci una storia importante eh lo so è proprio un peccato ma c'è qualcosa che dobbiamo fare di più importante capisco che il destino di un eroe e la sua missione abbiano più importanza che perdersi in giro quindi rispetto questa cosa e grazie per avermi insegnato cose più importanti mi dispiace legati questa opportunità ma dobbiamo andare non ti preoccupare ti potrei far perdonare offrendomi qualcosa da bene o raccontando in una delle tue storie d'accordo andiamo dai lasciamo perdere d'accordo un altro chi sei tu ah io sono solo quello che in Italia si sente la voce che è lì io abbiamo preso una scelta abbiamo fatto una discussione beh io se posso offrirvi un no non puoi suggerimento cuccia ma sono tutti ubbriati in questa palestra no non sono ubbriato sono perfettamente sobrio è la mia voce che è così eh ok nome di ascendente qualsiasi cosa sia molto in fretta perché dobbiamo andare io mi terrei molto lontano se fossi voi dalle cose più alte di 3 metri che consiglio del cazzo sarebbe no no tu potresti pensare che sia un consiglio del cazzo ma ho letto le rune so cosa andrete a fare io mi terrei più lontano dalle cose più alte di 3 metri mi avevano detto anche te che lontano dalle cose più lunghe di 21 centimetri ma beh l'hai fatto in effetti è vero d'accordo ottimo annotato non vorrei sembrare grazie a me ma io sul cavallo sono più alto di 3 metri ma non sei una sola creatura che va a te aiutare me non sei una cosa più alta beh ma possiamo possiamo parlarne mentre abbiamo grazie grazie per l'avviso buon proseguimento a proposito stia attento e mi raccomando stia lontano dalle cose che hanno più di 10 artigli ah sono a posto allora mi hanno tutti meno di me i cadali che ci fanno lì oh cazzo andiamo mi sposto buon intaglio buon intaglio adesso che guardi meglio stai intagliando non con un coltello ma con uno degli artigli della sua mano anche perché a me sta passando la sbornia e quindi alla frase del meno di me da 12 artigli che la sua attività abbia un lungo futuro e prospero ah lungo almeno come questo ti alza un artiglio che effettivamente è lungo e piazza al medio della mano con tre ditte soltanto e quindi in realtà è un terzo dito non vuol dire un cazzo addio vedi l'avevo detto che però affrontarci ma è il vorreo scusate sarò uno di città mi perdonete ma è una parola che nei boschi ci siano svanabolati ogni 5 km? beh di solito vanno nei boschi sì ma nei boschi non sul mitale dei boschi no eh si vede che ma che c'entra ma insomma dei boschi o sul mitale dei boschi peraltro sono avvolati hai visto come ti sei comportato fino adesso? si dice ma come fai a sapere che ha un comportamento sbagliato il suo che è zero di sapienza? peraltro se vogliamo hai visto come ti sei ho avuto a dire zero di sapienza ah cosa vuol dire zero di sapienza? hai visto cosa hai detto fino adesso? insomma zero di sapienza in che senso? cosa sarebbe sapienza? era poi da gioco andiamo avanti tu non dovresti mandarti di niente tu di solito come ti comporti? io? sì questo è in game o poi game? no da giocatore da personaggio come ti conoscono in realtà sono sempre uno che ti sto dietro se abbiamo fatto una missione abbiamo fatto qualcosa ci rilassiamo sbraco ritiro tutto quello che ho detto punto ho sbagliato a interpretare ritiro tutto quello che ho detto ok al contrario ti dico perché dovrebbero essere persona normali insomma cosa è normale? appunto chiamano persone normalissime sai che io ho problemi ho problemi nel capire la normalità di fuori nei boschi posso fare una punta? subito tu hai detto tu non hai detto appunto in continuazione prendi appunto in continuazione no no voglio fare un appunto su questa situazione stiamo proseguendo in una foresta dove abbiamo già visto che ci sono due persone non proprio del tutto normali cos'è? non è normale non è uno con 30 centimetri di artiglio non è normale cazzo io sono normale nei metri lo stesso con me sì però adesso questo stiamo potendo sembra che hai artiglio e due metri di croce è diverso quella è costruita comunque andiamo avanti cerchiamo di mantenere per una volta quel silenzio eroico che c'è perché di solito non sono narrati i viaggi di solito i viaggi hanno una notica di scena c'è la musichettina di sottofondo esatto che però non si sente perché attirerebbe l'attenzione quindi non devi farla con la voce no non si fa la voce quindi andiamo proseguiamo fino a che non dobbiamo arrivare in silenzio ci facciamo occhiate ci capiamo siamo compagni ci guardiamo intorno ma evitiamo di attirare tutta la foresta verso noi però sei tu che stai parlando sì è da questo momento basta ci sto passando a chiacchia mezz'ora faccio l'occhio lì non hai detto un cazzo non è ancora passato il pane salame che c'è una borsa non l'ho mai preso si che ce l'ha trova su io ti stai imbagliando non si capite non è Francesca per l'altro il pane è una materia particolarmente conflittuale stasera perché ne ho usato proseguite verso nord io ne zittisco quando parlo e sempre più insistentemente vedete il cielo diventare mano a mano più scuro è sera non dovrebbe essere sera nel senso che non avete camminato così a lungo da far passare così tante ore ho sbagliato a settare l'orologio che mese siamo? purtroppo la colonna di fumo che sale da dove dovrebbe essersi schiantata la cometa che avete visto cadere sta coprendo mano a mano il cielo partendo da nord e andando verso sud io ho una domanda faccio a a un certo punto senti lo so che sono poco esperto che mondi per certe cose è normale che sia così scuro ora? no è un'ottima domanda ma bisogna anche capire quando fare le domande giuste perché in questo momento l'abbiamo notato ma non possiamo farci niente me la deve sapere non è normale perché no a meno che a meno che ci sono tutti così tanto a nord che le giornate sono più corte ma non credo abbiamo camminato così tanto anche se avendo camminato in silenzio forse mi è sembrato che la sedi meno perché non capita mai quello che vedete però è che è fanball basta un po' oltre l'orizzonte che vedete voi la colonna di fumo che vedete salire verso il cielo è una colonna molto densa e che sta ricoprendo le parti di cielo terzo e limpido con fumo e fuligine questo fumo è cenere o è fumo porca merda è fumo e cenere porca merda il vento mi disperda non va bene per niente fa anche rima voi avete presente che quando io mi aperto la parte migliore di me stesso vedete fuoco e braci e fiamme e quando mi aperto la parte peggiore di me stesso vedete cenere cos'è quella colonna enorme di cenere davanti a noi una cometa che è caduta c'è stato di c'è un legame c'è sicuramente un legame certo tra il fuoco e la cenere è molto stretto no cazzo non capite è più di tre metri bisogna stare attenti e mentre alexander dice la colonna è più di tre metri non è bene fidarsi vedete in lontananza una delle musce nei bardi nella fiuma quella che sembrava una piccola collina sdragliata non piace la trova sdragliata che hai scelto quelle colline una collina non si sdraia tra le colline quindi io mi preparo visto che sento la voce del narratore che dice che c'era una collina sdragliata e hai in mano una pagina dove c'è scritto gigante quella collina sdragliata è come quella donna in direzione non va bene allarma molto alzare e vedi la propria schiena ok arruandola e appoggiandosi sulle mani in un afflatolo in un afflatolo di atrio ma perché disueto e vedete un essere alto almeno 7-8 piani forse di più almeno quanto la torre di un mago alzarsi e per 2 metri per la volta mi sa di sì come da sdragliato e guardandosi intorno parlare con qualcosa ai propri piedi e girare il proprio sguardo ben oltre dove siete voi verso Hugwald la capitale del regno e iniziare a muovere i primi passi in quella direzione se stiamo fermi forse non ci vede sta andando verso la capitale quale momento migliore per un eroe di fermare la creatura mostruosa che vuole distruggere la capitale ora guardo comincio ad avvampare mandando completamente a puttana il suo tentativo di rimanere non visto faccio un passo avanti e dico ora capisco cosa mi ha guidato qui e per un momento abbandono la propria io invece mi concentro per accumulare potere elementare aspetta un secondo fai una prova di ascendente o di rigore quella che preferisci per attirare attenzione ascendente sei ma capo ho fatto uno incredibile fa bolle ma fa culo consumo un filo e che cazzo non puoi dopo allora no non posso non puoi consumare dopo ma ho sciocato lo stesso ma ti fa ritirare non ti da un successo automatico non ti da un successo lo consumi lo stesso certo lo consumo devi scegliere che abilità a prendere e non ti da un successo automatico ogni due fili che consumi hai un punto fatto in più quando tiri beh prendo perfezionista quando scegli di sfidare il destino ottiene un vantaggio 1-4 su mi sei che mi sembra una cosa molto ingegnerica la tua roba la tua udaccia la tua udaccia ti fanno essere migliore che cosa fai ok ce la faccio a scendere 8 ah ce l'hai fatta yes quel dato lì cos'è 3 che mi ha fatto ritirare mi ha fatto ritirare la prova da scendere perfetto ce la fai vuoi anche tirare per i vantaggi cioè per i punti fatto adesso che ce li che puoi prendere 4-5-6 beh va bene ci provo e mi prendi 2 5 ok 2 vantaggi io nel frattempo io nel frattempo voglio accumulare inizia a muoversi l'aria intorno a me molto velocemente voglio accumulare un puntofato e lanciarlo in grattesimo usando un filo ok io spendo un puntofato per diventare una torcia nella notte una corona di fiamme e l'unico e insindacabile elemento che come dice che canalizza l'attenzione di questa creatura io voglio spendere un filo intanto immagino che sia temibile o addestrato decisamente è temibile quindi voglio vedere se un uccellino mi ha detto qualcosa su di lui ti dirò ti dirò un dado da 6 se faccio 6 mi devi dire un suo segreto 5 peccato però sai qual è il nome di questo gigante non sai quale sia il suo punto debole ma sai che il suo nome è il mir che uno l'ho accumulato ok anzi ne accumulo 2 perché ci metto un altro po' di più va bene perché voglio far non voglio far volare voglio fare camminare nel vento tutti e tre ok mentre il vento si avvolge intorno ai loro piedi viene iniziata a sollevare da terra e le fiamme vengono sparse ancora in maniera più grandiosa nel cielo l'op io scendo da cavallo non senza troppe difficoltà ma quasi ma quasi non senza difficoltà ma non senza troppe difficoltà con acquagli anzi che sì altro che no quindi con l'alicude era facile così sfilo la spalla dallo scudo mi posiziono pronto in mezzo ai miei compagni tengo l'occhio che è stato si stai anche volando tanto qui da te non è penso che sia effetto dall'acqua ma te l'ha tolto ma è un guardiano di mare guardiano non mi ti mando una volta al mese ciao sono l'occhio non dipendo nessuno da un mese non dipendo nessuno da quegli giorni e mi concentro sul terreno per richiamare un esercito di scogliattoli muochi Squirrel Girl Marvel Comics ok si è per caso allora allora no ci sono delle regole che mi dite non è evocazione di personaggi ma stiamo su una zona di bosco e quant'altro io suppongo non sto facendo evocazione di demoni angeli e coppia sto usando guarigione come elemento per richiamare animali morti diciamo nell'alco delle ultime due settimane ok come ok cosa vuol dire ok allora la risposta è sempre ok 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 per dargli l'energia è un bello sovrancessare nel corpo nel corpo per potergli dare fastidio a gigante creagli un disturbo perfetto allora puoi evocare delle creature non stai evocando è un veterinario vedi gli scogliattoli morti allora se stai richiamando delle creature morte che siano più o meno 100 di morte in questo caso stai evocando delle creature in questo caso i cadaveri delle creature morte recentemente per ogni turno per ogni turno oltre al primo in cui tieni queste creature in vita si abbassa il tuo punteggio di virtù che usi per evocare queste creature che secondo me in questo caso può essere volontà quindi quanto hai in volontà 4 per 4 round queste creature sono con te e eseguono i tuoi ordini alla lettera 1 1 nel primo round quello che fanno è quello che hai in mente tu all'inizio cioè di dare fastidio a questo gigante e voi vedete decine quasi centinaia di piccoli esserini tra scogliattoli uccelli roditori di piccola taglia che si arrampicano sulla robusta pelle del gigante che avete davanti e iniziano a cercare di morderli le zampe le mani le nocche le piccole parti che possono cercare di avere un effetto con degli animali così piccoli ma su un gigante alto 6 7 forza capitelo ora e lo sta dicendo i roditori quello che devi fare tu adesso è toglierti un punto di virtù perché questo è il primo punto ma la tolgo se andiamo a fianco perché è temporaneo per il combattimento barra c ok quello che fanno le creature che evochi tu è che il gigante ha lo svantaggio quando cerca di attaccarvi perché queste creature gli impediscono di vedere bene gli impediscono di muovere le articolazioni come vorrebbe infatti il mio obiettivo era dargli uno svantaggio una difficoltà nell'eseguire azioni che in qualche modo comprendessero un movimento o concentrazione perché è una l'altra ed è esattamente quello che sta succedendo Rael c'è un momento di ponderazione ok mentre ha qualche piede nel terreno ha un po' di fiamme e vedo in lontananza questo grandissimo gigante che non vede che me e non guarda nessun altro che me infastidito da questi roditori che lo che fanno di tutto per dargli fastidio io guardo come si muove contempo il suo sguardo e mi concentro su ogni singolo dettaglio per trovare un punto debole cosa è successo mentre lo sono allora lui ha evocato le creature morte un'orda di creature morte della zona che si stanno arrampicando sul gigante e gli stanno impedendo di muoversi come potrebbe lui intanto sta cercando il punto debole di di questo gigante questo gigante ma avviciniamoci intanto io mi lancio in volo in volo sarebbe un tiro di sapienza per capire la sapienza io pensavo curatezza no allora per sapere per sapere il punto debole e cioè i punti deboli sono qualcosa di previsto dalle regole ah ok ad esempio un elementare del ghiaccio è debole al fuoco vuol dire che se usate il fuoco fa un danno in più questo è che è vero il debole al minuto ok molto bene allora per sapere il punto debole della creatura ci sono delle classi che lo possono sapere grazie ai poteri della costellazione a cui sono associati oppure puoi fare una prova di saggezza allora io sapienza ho zero sapienza ho zero certo non potrei farla ma io sono destinato a sconfiggere questo strozzo sono qua per questo costi qualche costi quindi uso consumo più del destino ho successo e inoltre a quanti sei arrivato me ne mancano tre no questo è il quattro uno questo è il quattro questo vuol dire che è un'altra specializzazione che puoi segnare infatti non era già il terzo no mi pari due quattro sei a merda beh metterà come tu vuoi quattro sei quindi ce n'era anche un'altra quando avrebbe preso al secondo al quarto al sesto qui dal secondo ce n'avevo una uso quindi tu te ne hai due in più allora se te hai specializzazioni specializzazioni sono queste ne hai due in più davvero è sicura quanto è speso al secondo ogni ogni filo pari che consumi ok che vuol dire che secondo quarto e sesto prendi una specializzazione in più e se nell'azione che stai per fare puoi applicare due specializzazioni tiri due danni e i vantaggi li prendi con 4 5 prenderò elementarismo e qualcosa legato all'attacco alla potenza attacco come? io voglio scaricare armi l'attacco dello stregone quello basato sul carisma quello che usa il sangue quello che hai nelle vene per scatenare tutta la potenza che è contro qualcuno elementarismo allora quello l'ho preso e a sto punto l'altro che prenderò beh ci penso dopo io mentre cerco il suo punto debole sveglio dentro di me la capacità di penetrare con il mio sguardo le illusioni e di sorpassarle con serie di verità la tua costante ricerca della verità ti permette di vedere attraverso la maggior parte delle illusioni quando effetti una prova di volontà per capire se quella azione è un'illusione se la prova riesce non solo vedi come stanno le cose ma vedi anche una debole scia di magia o percepisce qualche radice e quindi vedo le illusioni cosa significa questo per me? no ma non devi prendere ferite per farlo? no no è cambiato? quindi non solo quella è un altro ancora che non deve tirare per fare non solo io mi accordo se e qual è il contributo di questa creatura si ma gli devi fare una prova di volontà io ho appena fatto no no io ho appena fatto la prova di quello ha fatto uso un punto quindi è riuscito nella prova di sapienza esatto ma per vedere la cosa delle illusioni devi fare una prova di volontà no aspetta il punto debole è l'azione che stava facendo non provi adesso stava cercando di vedere la cosa delle illusioni stava cercando di vedere il punto debole no aspetta aspetta qui mi dice che la tua costante ricerca di verità ti permette di vedere attraverso la maggior parte dell'illusione punto se quando quella è la descrizione dell'abilità non è che è una cosa che fai di base ah vabbè se c'è scritto dopo come funziona l'abilità se fai una prova di volontà vedi l'illusione e vedi la magia lui al momento si sta facendo di sapienza quindi intanto dimmi questa cosa poi eventualmente la farò allora quello che dimmi cosa non si capisce che allora lo scriviamo meglio allora perché questo gioco è un playtest allora in realtà è tutto è tutto perfettamente secondo me lui si è confuso con la costante ricerca dell'abilità che permette di vedere attraverso la maggior parte delle illusioni punto quindi pensa che già di base tu vedi le illusioni esatto e non che sia solo una premessa al quando fai una prova di volontà per capire se una cosa è un'illusione o no se la prova riesce non vedi solo come stanno ma vedi anche la cosa che ti conduce a chi ha lanciato l'incantino cioè io pensavo vedi attraverso l'illusione punto se passi la prova vedi anche chi le ha generate che è la premessa sì però non era inteso così di fatto no questo non lo so però io no perché come erano scritte perché ho visto anche le altre è il la prima riga di solito ti dà una del macro disegno dell'abilità sì sì e poi ti dice nel dettaglio non funziona beh pace però in realtà nel gruppo del martedì il play test l'abbiamo considerata come che guppi di illusione sempre l'ha considerata lui vede le illusioni se cerca di capire di chi sono quindi il pro le vede sempre capisce che sono illusioni ok allora in quel caso ma dici tu master se la vogliamo interpretare così io non solo vedo capisco quale punto del volo di consapienza ma vedo anche se per caso attorno a questo gigante c'è qualche strato illusorio che non ci sta facendo vedere qualcosa che invece dovremmo vedere allora capisci che il gigante è molto è un vero gigante non è un'illusione è molto forte fisicamente e incredibilmente per te mentalmente è molto addestrato a resistere oh ma è molto debole sul versante magico quindi se cerchi di convincerlo a parole di qualche cosa è quasi impossibile va con la magia se cerchi di fare delle illusioni fargli credere che ci sia qualcosa che non ci sia quello è molto facile riuscire ok estremamente facile perché per come funzionano i PNG e qua aggiungo un addendum sulle regole di prima prima abbiamo visto i PNG gregari questo è un PNG temibile il PNG temibile va dai 22 ai 26 punti da dividere tra addestramento fisico mentale e mistico perché i PNG non sono eroi funzionano un po' diversi sarà un caso che quando un manto ha aperto la porta si non si tratta di le grida no non è colpa mia non ho ucciso nessuno i PNG non devono essere degli eroi non devono essere bravi quanto voi a fare delle cose specifiche sono bravi genericamente in alcuni campi ok in particolare i PNG temibili sono più bravi ovviamente di PNG addestrati o gregari possono cercare di ottenere puntifato ma richiedono di ottenere sciagure e contano come 3 PNG addestrati ok nel bilanciamento degli incontri un PNG addestrato conta come 3 PNG gregari quindi stai affrontando tazzotti al microfono 9 PNG gregari sai che sto leggendo ultimamente un romanzo recente in cui hanno suddiviso per i domini del nord le armate con coscritti scagnozzi nominati e poi l'eroe di turno l'ordine è che uno sta lì i nominati quelli che hanno meritato di avere un soprannome i nominati sono addestrati gli scagnozzi sono i gregari e i boss sono i boss esatto sentite risuonare nel vostro stesso cuore che la magia è lo strumento per sconfiggere questa creatura io sto volando a 100 metri da voi ormai sentite che mi iniziasse a fare questo e ho preso e non in volo sentite risuonare nel vostro cuore è che la magia è lo strumento per sconfiggere questa creatura poi starà a te esatto magari il tuo cuore non ci sente se hai il vento tra i capelli quali capelli? quali? non lo so dopo alcol al nastro fa sempre bene comunque lui era el io o se ero partito tu eri partito non lo sentito niente no ho detto che si chiesa nel tuo cuore ma hai fatto la prova per trasmettermelo c'è una prova per trasmetterlo? vuoi fai trasmettermi una cosa nel mio cuore? c'ho cazzo funziono e mi mantengo pronto come reazione per allora come funzionano le reazioni perché anche questo è stato pensato nel turno dei personaggi potete decidere in che ordine agire ok si può scendere se siete in grado se non siete in grado di decidere tirate l'iniziativa che è il dirlo di volontà se volete rinunciare alla vostra azione per dare aiuto a qualcun altro lo potete fare ma non esiste l'idea di mi preparo all'azione di qualcun altro perché se è un vostro compagno basta agire dopo di loro o in contemporanea se è un nemico quando vedete se il nemico è riuscito o meno potete decidere di rinunciare all'azione del round dopo quindi nel round prima dovete comunque agire un nemico c'ha sempre un'azione o quelli grossi ce ne hanno di più un nemico ha sempre un'azione quindi in teoria in quattro con un nemico anche grosso uno lo picchia gli altri tre usano solo per impedire all'altro di fare qualcosa lo stoppano se è da solo sì in questo in questo caso è da solo quindi in realtà in questo momento la mia idea è un visto che ci sono gli tiro una una maledettissima spada per il piede vista di complicata anche questo funziona ma non erano lontani io non tanto io non ho fatto l'ha pensavo che era lontano che c'era la collina che poi era la collina che si alza alzarsi ma lo pensavo che si basse 10 metri no allora gli step di distanza funzionano in maniera narrativa non sono che era contatto no contatto vicino medio lontano esatto era lontano diciamo che era più o meno medio è una collina che si alza nel senso che una collina che si alza se siete abbastanza lontani ok è un conto se siete ai piedi della collina siete comunque a raggio medio perché arrivare ok però non ci arriva con il mio nome allora se cerca di ispirare il destino o ha dei punti fatto da parte ci arriva tranquillamente ne puoi tenere da parte un numero pari al tuo punteggio di volontà se hai due ne puoi tenere al massimo due senza minuti di tempo se hai sei ne puoi tenere sei senza minuti di tempo e così via ok non ne ho a mini sfido del destino no bene vantaggio shakura shakura voi shakura usiamo una bella cosa che mi stava fine shakura voi shakura ho messo una pagina ho messo delle ho messo prima volevo farlo io su erano qua tira la 6 e vediamo che shakura viene ah vediamo 3 5 5 6 6 6 6 7 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 8 8 8 8 8 9 9 11 11 12 13 13 14 14 14 16 17 19 16 17 19 19 19 19 20 20 19 19 considerato il fatto che i piedi erano ancora nelle staffele. Che si erano un po' sollevati. Si erano anche un po' sollevati. Io invece, che non ho ancora fatto gli altri, ero già posto prima, quindi immagino che adesso io sia vicino. Sì. Non credo che abbia ancora notato. Immagino che stia guardando la piazza. Ti pare di notare che lui ha tirato la piazza. Allora io sempre volando, visto che non durerà ancora molto, se si inizia a picchiare, voglio mentre volo trasformarmi in una creatura abbastanza piccola da non essere notata da una creatura così grossa e anche raggiungo una spalla. In questo momento sono capace già a trasmutarmi perché sono tutto male. Trasformarsi in altre creature funziona in maniere simile a evocare altre creature. Una trasformazione dura al massimo un numero di turni pari al proprio punteggio di vigore. Ok, quindi due. Ok. Oppure una scena con il combattimento. In questo caso sei in combattimento, quindi dura al massimo un numero di turni pari al tuo vigore. Puoi trasformarti in qualcosa di più piccolo. E' una creatura generica di un qualche tipo. In questo caso che ne so, un caramelo. Perché è un bel colore. Sì, insomma, però, insomma, una piccola categoria generica. Se tu volessi trasformare in lotter e non in un umano generico, dovresti usare dei limiti. Se volessi trasformarti in un kraken. Se tu volessi trasformarti in un kraken, dovresti usare dei limiti di fatto perché è più grosso di te. Puoi trasformarti in qualcosa di più piccolo, ma non di più grosso, a meno che tu non usi dei limiti di fatto. Comunque in questo caso vuoi passare all'osservato. Sì, voglio diventare tipo, cioè, penso che se diventassi una mosca. Un gigante. Se tu volessi schiacciarmi, facendo così, non ci sarebbe comunque per forza dello spazio sulla mano. No, è troppo grosso. Ah, allora devi diventare un moscone. Ok. E atterrani su una salla. E sono competente. Due. Allora, trasformarti. Per trasformarti non c'è bisogno di tirare. Ok. Il tiro è per vedere se ti muovi senza che lui ti noti. Dieci. Non sa nemmeno che tu esista. E di atterrani su una salla. E poi che sono lì, poi proverò in caso a rivedere se mi ritrovo anche a rivedere il punto dei vuoi. Voi avete fatto tutti? No. Ah, oh, sì. Sì, sì. Quello... Che stanno ascoltando? Fanboy! Basta! Quello che... Potrebbero non ricordarselo a questo momento della serata. È importante... Quello che succede... E per me possiamo continuare settimana prossima. Per me c'è stato. È che il gigante... Così impara lo stronzo a spendere 72 punti del destino. Ah, poi non lo ha speso il quarto. No. No, sì, non lo ha speso il quarto. Ok. Solleva un enorme, gigantesco massimo. Un massimo. E... Reazione. Lo lancia. Ok. Intanto vediamo se... Lo lancia su lui? Lo lancia... Allora, il gigante è talmente grosso che fa dei danni ad aria. Oh, che bello. No, ok, ma sta mirando alla colonna di fuoco che ha fatto lui. Sta mirando alla colonna di fuoco, ma per come funzionano gli attacchi ad aria prenderebbe tutti e due loro due. Certo. La ricolatica ha svantaggio. Prendi i scogliattoli. Cosa stai facendo? C'era l'aria. Uuuuuh! Due e due. Forse si era fatta lo stesso. No, perché ha quattro. Solleva questo masso, lo lancia nella direzione che gli sta infastidendo in questo momento. Voi vedete passare a pochi metri da voi un masso abbastanza grosso da disintegrare una casa. Ma io uso la mia reazione. Aspetta, l'ho detto prima io. L'ho detto prima io. Ma io sono più vicino e lo vedo prima. Ma la detto prima. Io uso elementalismo e illusione come specializzazioni. Quello che faccio è creare un incantesimo tutto attorno a lui usando la maggior parte del mio potere dicendogli non avrai vita facile con noi. E quello che creo attorno a lui sono delle illusioni di fiamme che lo fanno apparire circondato da un esercito di cavalieri di fuoco simili a me. Ok. 2 di 6. 2 di 6 e se cerchi di sfidare il destino hai 4, 5, 6 perché si applicano tutte e due. Ok. Cerco di sfidare il destino, uso ovviamente ascendente. 6 e 5. 6 e 5 l'ho fatto. Quindi un punto fatto. Quello che faccio è usare i miei punti fatto. Due punti, davvero? Sì perché hai già consumato 4. E io uso. Ho letto le regole eh. 3. Beh c'hai bevuto sopra è quello il problema. Esatto. 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 L'unico, l'unico è stato Fate. Fate. Ti giuro. Fate dove i medicinali scaduti dove lui sapeva tutte le regole. Non mi ricordo più. Senza io non sapevo neanche una regola. Lui si è preso. L'antibiotico è scaduto. Ha iniziato a sparare le regole ma tipo come sono le stesse leggiatora. No, ma c'è 28. Scusate. No, no. Perché c'è scritto che l'accodito della notte eterna ha due di fisico e due di mentale. Così a voce. No, ma non solo. E meno andare a vedere. Cazzo è vero. Ma non solo con una voce prosaica la superquare. No, perché dovete sapere che in realtà in pagina 42 del manuale c'è scritto questo. Che c'è scritto? Un comode l'occhio incredibile. Allora. Devo gioco cerchiamo di dare gli antidiatici scaduli quando non sappiamo le regole. Io ho fatto questo bel 5 e 6. Ok. Come ho detto, elementalismo e illusione. Spendo i due punti fatto che ho appena investito per creare attorno a me questa illusione di questa molto ampia, di questo esercito di guerriere di fuoco, tutti attorno a lui, che duri di più. E su questo... Esercito, duri di più. Con illusione. Allora, l'illusione è di... Che cazzo. Che cazzo. Vieni a chi vuoi. Vuoi vedere. Ho preso off poster specializzazione. Io invece, come reazione, quando tira il masso... Metta qua cazzo. Scusate. Aspetta, l'ha già tirato. Sì. Ok. Se io gliel'avessi voluto far cadere in testa... Cioè, tipo, lui alzava la mano per fare così e fargli scivolare le mani... Puoi provare lo stesso, perché tanto lui non è riuscito a lanciarlo verso di voi. Ok. No, io voglio solo che quando fa così voglio usare elementalismo e dislocazione e ammaliamento, tutte e tre insieme. Perché voglio provare a combinarle così. Slocare le mani. Con dislocazione gli sposto, ma giusto perché è troppo grosso, in maniera impercettibile le mani, in modo che la presa non sia proprio sicura. Con elementabilismo gliele faccio sudare, o gli creo una patina d'acqua sulle mani, e con ammaliamento cercate di convincere a fargli dare tanta forza in modo da doverlo ricaricare per lanciarglielo in testa. Ok. Allora... Diciamo che togliamo in caso l'elementalismo. Tieni due dati per la prova di virtù. 5. E col vantaggio voglio fare che mi riesca bene quello che sto facendo. Bene in che senso? Che comunque è una creatura grossa, io al momento sono anche non nella mia forma, voglio usare il vantaggio per essere sicuro. Di fargli sta cosa. No, di farglielo scivolare. Allora... Adesso ho già riuscito, no? Sì. Sei riuscito. Allora tiro al caso. Vai. Mi ha metato la rosa però. Tieni. Doppio fumble. 2 e 2. Ma c'è l'avversario che torna a tirare, gli cade in testa e... Stelline. Stelline attorno a testa. Quando le stelle posso tirare? Esatto. Stavo citando Ruggerardi. Stavo citando Ruggerardi. Il masso si sfracella sulla testa del gigante che non è ancora sconfitto. Ma scopriremo settimana prossima. Come va a finire questa... Eeeh... Dalla 200 puntata dalla Forge degli Eroi. Allora, ho degli ospiti eccezionali che sono rimasti fino a quest'ora perdendo il valore. Pascia dal valore. Il problema è che si è ragionato quando escono di qui. Ed in altre ore, come... Ma voi si è... Poi puoi tirare il mio maglio. Un maglio di intrusponazione. Un maglio di intrusponazione. Sì, ma dislocazione... Dislocazione semplicemente... Sì, si trova una carica. Sì, si trova una carica. Sì, sì. Vedi, vedi. E poi te le darà un altro volentieri di passaggio. Anche qua, Rigione, tu e venendo di sonno. Ora addormentati. Allora, alcune cose fondamentali prima di venendo di tutta questa puntata. Fondamentali. Ok. Punto primo. Quanti pix? E che cazzo? Allora, non ci sono i pix, ma fanculo. Seconda cosa. Venite alla Forgia degli Eroi. Via Ampere, Milano. Diciasette o quindici. Non so il numero, ma è Via Ampere. Lo vedete? C'è scritto la Forgia degli Eroi. Sono tre vetrine. C'è una cucina a pista che spacca. Io ve lo dico, dai esperto, benitore, la birra è buona. La birra è buona, il cibo è buono. E si trova il posteggio subito davanti. Ah, se non è la copa Milano. Aspetta, fermi tutti. Lui ha trovato il parcheggio subito davanti. Perché c'è gente che ci ha venuto a trovare che sta ancora girando. Ha fatto un tiro di ascendente sul parcheggio. Ma c'è un posteggio vuoto davanti, da parte della strada. Facile da parlare. Esatto. Oltre alla Forgia degli Eroi, potete andare su fumblegdr.it slash shop, comprare i nostri gadget tipo la maglietta di Fumble, la maglietta di Alcamperongo e Rodgar, le tende della doccia, gli adesivi del portatile, i cuscini, l'orologio, tutto quello che potete pensare. Potete comprare Urban Heroes dal nostro sito usando il codice FumbleNow. FumbleNow! Se vi è piaciuto ascoltare Clotes, potete ascoltare la settimana prossima, perché andremo avanti. Potete chiedere di essere iscritti al gruppo del playtest di Clotes. Corrego Claudio, dato che vi è piaciuto ascoltare Clotes. Grazie. La terza cosa che potete fare per Clotes è venirci a cercare al play di Modena, perché io ho dei manuali in eccesso. Sacrimino Glass Street E sono quelli custodisti che sono questi qua della 2 centesima montata. Sono quelli che quando diventerà tutto famoso farò anche mercato rispondi suopacchi. Non solo, Scriveteci ... Per non essere veniali, è giusto per non essere veniali. Che hanno anche le due pagine in inglese. Due pagine in inglese che hanno molto molto... Grazie all'ospite che ce lo ricorda, due pagine in inglese, bonus. Venite a cercarci al Play di Modena, sia per Fumble che per come quel gioco. Ci fanno due chiacche, ci scambiamo per il gioco. E vorrei ricordare che sullo shop c'è anche il cuscino di Kevin. È vero, è vero. Grazie a George che ha disegnato Kevin. Non mi ricordo perché era così, perché gli altri cosa stavano facendo? Mentre erano straiato, ora straiato. Ma sei un diato al mare, credo. Sì, esatto. No, ma era successo in gioco. Non mi ricordo. Sì, è probabile che ci fossero dei funghi. Andate a proposito di funghi a leggere Dungeon Food. Non ho trovato gli altri numeri, ma non ci sono. Andate in fumetteria a comprarlo. Il mio prossimo personaggio è una campagna seria. Quindi magari quando fai la campagna di Clothes, o così sarà il nano di Dungeon Food. Perché è bellissimo. J-Pop è l'editore italiano per Dungeon Food. Andatelo a comprare perché ne vanno veramente a pena. Ok, non voglio fare quello menale, tra le cose. Te lo presto io. No, aspetta, è anche quello del... A breve, mi sa che metterò in mente anche alcuni manuali sparsi e degli altri fumetti. Prima di mettere in mente i manuali parliamo. Ma comunque... E poi, signore, devi andare in Italia del Cyber? In realtà sì. Ah sì? Sì. Ok, lo tengo da parte. Per quello vi dico, parliamo di... La... La cosa più importante che dobbiamo dire di questo mese che sta arrivando alle porte è che un nuovo giocatore si unirà a Fumble. Scusate però... Si chiama SocietySix? Non avevo visto che c'è il più umone con l'uomo di Fumble. Ma io lo voglio. Certo, dicendo. Ma che bomba è. Ma guarda che bello che è. Io non lo voglio. Perché non vuoi fare Fumble sotto le coperte. Ma anche sopra un guardo, uno dei tuoi non è più. Il nuovo giocatore porterà una ventaglia di novità. Allora, c'è un nuovo giocatore, se seguite QWERTY, lo conoscete già. Perché è con noi, si può dire già. Possiamo dire. Chi è? È con noi che fa sempre l'altro podcast, il podcast, sui giochi da tavolo, che se non siete mai andati a sentire e andate ad ascoltare, è come è con il gioco. Ed è Gianni. Ed è Gianni. Gianni. Ma Gianni. Speriamo che lui riesca a tenere a bada il gioco di manto. I tiri, purtroppo, non c'è stato. Gioco di manto, gioco di manto, gioco di manto. Manto, detto questo, i tuoi tiri non li può aiutare perché lui è peggio. Nessun? Davvero? Ah, qui. Sì, vedete che stiamo ascoltando il nostro podcast. Ah, allora, questi sono dodici dati da sei. Se Gianni ritira, fa dodici. Ok, bene. Niente, già dopo il punto. Io ho fatto sei o tre. Considera che in tutti i giochi, quei pochissimi, tipo due, perché adesso giochiamo solo cooperativi, nei giochi in cui siamo uno contro l'altro, tutte le volte che c'è da tirare un gato contro di noi, lo facciamo tirare a Gianni. E funziona. Funziona. Bellissimo. Ciao Gianni. Ciao Gianni, se è stato piacere. Quindi, lui si unirà, questa non sarà l'ultima delle novità che arriveranno. No, sì. Ma adesso non ne anticipiamo niente. Anche poi che sarà poi sbrodoate le novità. No, manco ha vinto una fornitura a vita di alcol. No, di amicurare. No, di amicurare. No, di amicurare tutti, sarebbe meglio. Questo, quello potrebbe essere effettivamente un punto di forza. Se vi è piaciuto Clotes, scriveteci su Twitter, oppure andate sulla pagina di Facebook di FAMBOGDR. Oppure venite qua alla Forza degli Eroi e andate a prendere i miei di te. Ma sai che a me è piaciuto molto Clotes? Non servirà niente, però... Non è detto, non è detto, perché io sarò spesso qua. Sia in settimana che non. Se venite alla Forza degli Eroi e siete di Milano, vabbè, magari no, ma ci vediamo. Se venite da fuori e venite apposta alla Forza, fatecelo sapere che ci facciamo trovare. Esatto. Quelli che possono essere qua a Milano la sera in cui venite. Forza. Esatto. Forza degli Eroi di Amber. Venite in settimana, si può giocare da tavolo e in ruolo nella saletta dove abbiamo giocato stasera, ma da sopra ci sono altri tavoli dove giocare a giochi da tavolo. Hanno anche calze che si muove, se non ce l'avete e venite a giocare qua, vi prego, fatelo per il vostro. Sare con i PC di Uber dove giocare per i giochi. C'è la sala LAN con i PC, c'è la sala console, il piano di sopra dove giocare con la console. È una bomba. Si beve, si mangia. Bene. Oh, c'hanno la cucina a vista fuori, quindi... Non saprei cos'altro dire, sono tre vetrine a Milano che vuol dire una roba... Quindi date gli vostri soldi dopo che li avete dati a noi. Io gli ho già dati i soldi alla Forza, non solo stasera, ma anche per chi è stata. E voi dateci i vostri, mentre i dati a loro, cosa è importante? Per dare i soldi a noi potete andare su famogdr.it slash shop e trovate nella sidebar il pulsante dono, oppure potete andare su qwerty.it slash associati. Due anni, auguri qwerty! E diventare soci dal secondo anno, dal settimana scorsa, perché dall'11 marzo ufficialmente è nato qwerty. e questo è il secondo anno di qwerty, appena appena, appena dopo la festa della donna che abbiamo festeggiato con il personaggio di Manto e sua mamma, i grandi schiaffi che li seguivano, la buona Caterbabold. Noi ci sentiamo settimana prossima, a questo punto probabilmente con Clodest. Yes, assolutamente. A me lo finiamo questa. Buonanotte! Buonanotte a tutti, grazie di averci seguito, e viva fambole, e viva qwerty, e viva gli ostini. Grazie a quelli che sono arrivati anche da Torino per ascoltarci, grazie a quelli che volevano essere qua, ma proprio non sono venuti, e ci sentiamo settimana prossima. A settimana prossima. Buonanotte! FAMBOLO! FAMBOLO!